Buongiorno a tutti da Borgo Valzugana per questo momento la gara riservata alle donne esordienti primo anno, cioè le ragazze nate nel 2009. La gara riservata alle donne esordienti si svolgerà su un circuito che le atlete dovranno percorrere svariate volte un circuito di 6,5 km che dovranno percorrere per 4 volte. In occasione dell'ultimo giro però ci sarà la variante della salita, uno strappo di salita piuttosto impegnativo, non lungo, ma che sicuramente anche in questa occasione, così come è avvenuta gli anni scorsi, creerà una selezione. Intanto mentre scorrono le prime immagini vedete alcune atlete in difficoltà, sono 80 le atlete iscritte per quello che riguarda la categoria donne esordienti del primo anno. Vediamo alcune atlete subito in difficoltà per problemi meccanici. La gara riservata alle donne esordienti del primo anno si svolgerà sulla distanza di 27 km e 100 metri per 4 giri. Tra l'altro voglio ricordare che in questo caso le atlete passeranno sotto l'arrivo solo al termine della corsa, negli altri casi passeranno invece a fondo al rettilineo d'arrivo dove è posto il contagiri e il suono della campana. Voglio ricordare intanto l'ordine d'arrivo ufficiale della 22esima Coppa Rosa, gara riservata alle donne allieve che avete seguito stamattina, vittoria di Chantal Pegola della Conscio Bike Friuli, secondo posto a 5 secondi di distacco di Giada Silo della Scuola Ciclismo Vo, terzo posto Eleonora Labella il pirata Samaricambi Vangi che avete sentito anche, abbiamo intervistato al termine della gara, quarto posto per Beatrice Temperoni ciclistica Bordighera, al quinto posto a 10 secondi Alice Bulegato dello Young Team Arcade, sesto posto per Linda Sanarini a 16 secondi Scuola Ciclismo Vo, settimo posto per Elena De Laurentiis ACD Guarenna, ottavo posto per Anita Baima Cicchi Fiorin Cycling Team, nono Lucia Brillante Romeo Valcar Travel Service e decimo posto per Arianna Bianchi BS Carrera. Le prime 10 arrivate per quello che riguarda la gara riservata alle donne allieve Coppa Rosa che avete seguito stamani, da pochi istanti ha preso il via la gara riservata alle donne esordienti del primo anno, percorso diverso rispetto a quello delle donne allieve, un percorso più breve, un circuito di 6 km e mezzo che le atlete dovranno percorrere in questo caso per quattro volte, nell'ultimo giro è leggermente più lungo con un tratto in salita, la soprannominato Ferdberg, la salita dei cavalli perché è un tratto particolarmente impegnativo che le atlete ripeto è un po' più difficile rispetto al percorso delle donne allieve perché è un circuito molto più breve quindi molto più nervosa la gara, un po' come è la caratteristica della categoria degli esordienti. Ripeto, gli atleti sotto l'arrivo ci passeranno solo al termine della gara, in tutti gli altri giri in fondo al rettilineo di arrivo al centro di Borgo, è molto più nervosa la gara negativa alla categoria degli esordienti. Sì, è un circuito ricavato in una zona abbastanza mossa e una metà è mossa, è molto, ha continuità di scendi, curve, un po' di rilanci, invece la seconda metà si fa nel ritorno verso Borgo Val Sugana, sulla strada provinciale è completamente pianeggiante e bella scorrevole quindi consente anche di recuperare una parte di tracciata mentre l'altra di solito viene affrontata un'andatura un po' più spinta. Grandissima favorita sulla carta la campionista italiana Anna Bonassi che quest'anno dobbiamo dire dopo la conquista soprattutto della maglia tricolore ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre, vedremo se lo confermerà anche oggi. Ma di solito in queste categorie è facile che ci sia un dominatore nel senso che magari superiore alle altre per qualità, per crescita fisica e quindi può essere che sia vinto il campionato italiano, ha fatto 12 vittorie stagionali quindi penso che sia veramente veramente favorita. Bisogna vedere perché c'è uno strappo alla fine, il famoso strappo che quest'anno abbiamo finalmente nominato nel senso che abbiamo dato un nome ed è il Ferdberg che vuol dire in tedesco Ferd, cavallo, lo strappo ovvero la salita dei cavalli. Quindi Ferdberg e l'anno prossimo stiamo pensando di fare dei cartelli sulle salite con la pendenza, la lunghezza eccetera per dare indicazione come fosse un punto e comunque per gli amanti c'è anche il punto strava per poter prendere i tempi. Qual è il record che tu sappia? Non lo so. So che lo fanno tutti qua i ciclisti in zona dagli junior, agli under eccetera però devo ancora vedere, forse se vado a controllare lo trovo. Torniamo alla gara delle donne allieve, mi sembra che il risultato finale, ora vediamo naturalmente con i tanti impegni organizzativi, Ugo Segnano ogni tanto è chiamato dall'organizzazione per problemi, ripeto, connessi sicuramente all'organizzazione della corsa, dicevo ora stiamo assistendo alla gara riservata alle donne esordienti del primo anno che gareggeranno sulla distanza di 27 chilometri e 100 metri. ritorno tra una richiesta e un'altra, tra la segreteria e qualcosa. Ma lo dicevo ora, gli impegni naturalmente non mancano, vediamo subito due atlete al comando. Subito due atlete e la campionessa italiana tra l'altro. e Vivian Cassata della Busto Garolfo se non sbaglio. No, no, ma vediamo il gruppo è tutto in lunga fila indiana. Ma già sono in testa, già la campionessa italiana si è messa in testa. Sta probabilmente fuori dei problemi anche per evitare... anche perché questa ragazzina nelle ultime occasioni spesso ha trionfato anche su quelle del secondo anno. Quindi decisamente sembra avere un... sembra, dico, non vedremo oggi, in questo periodo una marcia in più. Dicevamo della salita, salita finale, che affronteranno una volta e che sicuramente è destinata a fare la corsa. Il fatto per l'attesa ordienti credo che sia veramente quella che farà la differenza poi sull'ordine d'arrivo finale. Ma anche perché ha una discesa molto veloce poi? Sì, la discesa poi è velocissima, è anche entrata in pianura, è in rettilineo. Chiaro, chi è dietro potrebbe vedere la cupola avanti, è stimolata a rientrare, però è molto scorrevole. Non ci sono difficoltà fino ad arrivare al traguardo. Fatta la salita si arriva in un attimo in discesa. E poi all'interno del paese di Borgo. Devo anche dire però rispetto alla gara di stamani non sarà facile fare la differenza in salita. Eh, bisogna vedere perché la salita è abbastanza dura. Ha punte impegnative e quindi poi la vedremo sicuramente. La lunghezza della salita? È corta, non è lunghissima, sono circa 600 metri. 700 metri. È vero che sono ragazzine... Un po' più morbida e poi si impenna in altezza, all'altezza del recito dei cavalli dove deriva il nome. Deriva il nome. Fertberg. Allora, tornando alla gara, alla gara delle donne allievi, mi sembra che sia un risultato che rispecchia quelli che erano i valori in campo oggi. Sì, credo che la salita si è visto che ha avuto un passo. Sperutto la salita costante è molto elevato e poi quando ha deciso di scattare, aumentare sul tratto finale più duro ha subito guadagnato quei 4-5 secondi che poi li hanno consentiti. Sta terminando il primo giro? Sta terminando il primo giro. Quindi sono 6 chilometri e mezzo percorsi dell'atleta e quindi devo dire... Sono 4 giri. 4 giri. Quindi siamo sulla media oltre 36 orari in questo primo giro. Sì, una buona media, un bel passo. Adesso sono alla curva che porta il centro storico e da lì inizierà la parte mossa, praticamente da il tratto in pavè che fanno ora. Poi sarà tutto un saliscendi, sino ad arrivare alla svolta che all'ultimo giro faranno la salita e invece nei giri iniziali li porterà verso il tratto pianificante. Anche questo tipo di percorso, in qualche punto strade abbastanza strette, varie curve permettono una certa selezione anche all'atlete, permettono di allungare il gruppo. Adesso vedi, qui c'è un pezzettino di salita. Non è lungo, però allunga sicuramente il gruppo. Via per Roncegno questa, perché il percorso di gara oggi si svolge tra Borgo e Roncegno. Poi adesso c'è un pezzettino di discesa. Poi un altro piccolo dentello. E poi è tutta così, si chiamano i boai in questa zona di Borgo. Boai perché da dove scende, scendevano dei rigagnoli d'acqua, dopo la montagna, e si hanno scavato delle piccole vallette, che si chiamano boai in dialetto. E da lì il nome della via, della zona. E infatti per questo è caratterizzato da continuo sadiscendi, proprio perché c'è la valletta, se va sul fondo della valletta si risale, eccetera. E quindi ha una conformazione geografica, diciamo, geologica. Le atleti iscritte erano 80, dobbiamo dire in alcune occasioni abbiamo visto un numero superiore di atleti, però quest'anno la categoria donne esordienti del primo anno, diciamo, non sono tantissime. Ma ho visto anche nelle categorie giovanissime, G5 e G6, in particolare anche i G6, sono stati quasi in proporzione rispetto al numero maggiore che abbiamo avuto degli atleti, meno le batterie dei G5 e G6 rispetto alle G3, G4 e G2 alla coppetta. Vuol dire che probabilmente veramente gli anni di pandemia hanno tagliato una buona parte, o una parte di atleti che non li troviamo ovviamente alla partenza, perché c'è stato un calo anche nei G5 e G6, invece nelle categorie sotto vedo un buon numero di partecipanti. Ci auguriamo anche perché è un momento in cui è difficile anche mantenere il numero delle gare perché mancano gli atleti. Sì, si disperdono magari su varie gare e arrivi a fare gare con meno partecipanti. Sede ogni tanto, è successo anche noi in alcune gare che abbiamo organizzato anni fa, ritrovati magari via 45-50 atleti, succede. Sono solo le gare della Coppa d'Oro e della Coppa di Sera dove c'è la pida, anche noi abbiamo problemi magari a mettere insieme un numero adeguato di partenti. Però speriamo che questa ripartenza dopo la pandemia porti a un numero maggiore di praticanti o comunque mantenga un numero elevato di praticanti. Intanto grande controllo in testa il gruppo, ripeto, quindicesima Coppa di Sera, riservata alle donne esordienti il primo anno, gruppo per ora sempre compatto, sono 27 chilometri e 100 quelli da percorrere. Per ora le atlete sono quattro giri, i primi tre identici al primo, l'ultimo, con questo strappo di salita che molto probabilmente, come diceva Ugo, in passato è stato spesso determinante, anche se qualche volta ci ricordiamo nelle passate edizioni qualcuno anticipando è riuscito ad ottenere il successo, ricordiamo per l'anno a livello esordiente i vicini che allungò precedentemente e arrivò da solo, con una sorpresa, fu una sorpresa, era uno dei grandi favoriti. La zona è caratterizzata proprio dalle coltivazioni delle mele ed è una zona prettamente agricola e le strade quindi non sono larghissime e questo aiuta il gruppo ad allungarsi. Abbiamo visto che, se ti ricordi, nelle prime edizioni girevamo in senso contrario e purtroppo abbiamo notato che c'era una propensione molto elevata a cadute e incidemi, nel senso contrario. Invece in questo senso abbiamo notato che la corsa si tiene molto più lunga nel tratto di percorrenza della zona qua, dei Boai, e invece poi si raccorcia o magari si incompatza sulla zona della provinciale. però evitiamo di avere dei rischi maggiori, magari di cadute che possono accadere sempre, però in questo momento è un pellettino più duro girare in questo senso rispetto all'altro. Ci sono degli strappi un pochettino più impegnativi. E poi ora aver trovato questa salita nuova che nelle prime edizioni della Coppa di Sera non c'era che ha permesso anche di emergere atleti che magari prima si arrivavano tutti allo sprint. Sì, infatti l'idea è anche quella, come ho detto prima, durante la Coppa Rosa. L'idea è anche quella di arrivare con dei gruppetti più ridotti per giocarsi la volata o fare la parte finale di corsa, proprio per evitare rischi che poi sull'ultima curva, immancabilmente, qualcuno allargava leggermente, si toccavano e c'era sempre o quasi sempre o in maniera molto frequente delle cadute che poi rovinavano un po' anche l'arrivo generale. Allora, tornando ora alla corsa di oggi, ripeto, favoritissima Anna Bonassi, però corsa che siamo convinti anche oggi sarà all'altezza della situazione, dimostrerà ancora una volta che per vincere qui a Borgoval Sugana ci vuole qualcosa di particolare. La prima gara è stata vinta da quella che era una delle grandi favorite, come Chantal Pegolo, la più vincitrice. Vedremo se Anna Bonassi saprà confermare anche in questa occasione il pronostico. Dicevi prima le variazioni di percorso. Io devo dire anche che, tornando a chi non viene a Borgoval Sugana, si immagina spesso che qui ormai funzioni tutto sempre uguale, è una manifestazione che ormai ha una grande storia, però tutti gli anni qualcosa voi organizzatori di nuovo ci mettete sempre. Vuol dire, come dicevi, che non dico che non vi incontentate mai, però cercate sempre di essere aggiornati su quelle che sono le nuove problematiche che vengono fuori nel ciclismo. Sì, avendo la squadra dei ragazzi, quindi vediamo anche un po' com'è l'andamento generale. Per esempio quest'anno mi hanno detto che il secondo giro su Telbe per le ragazze forse è un po' duro, sono arrivate meno degli anni scorsi. Dipende dalle annate, perché abbiamo fatto i due giri su Telbe agli anni scorsi, invece era molto più... E poi dipende dal ritmo in cui prendono la parte iniziale di gara, ovviamente, perché più vanno a ritmo elevato, più si fa selezione sugli ultimi giri. Valutiamo sempre in base alle situazioni, per quanto possibile, anche perché poi i percorsi ormai più o meno saranno sempre questi. Ci potranno essere delle piccole modifiche in alcuni tratti, però di fatto ormai sono abbastanza stabili. Il problema è che abbiamo delle strade che non sono larghissime, e quindi ci muoviamo su delle zone dove possiamo farli correre valutando anche la sicurezza. Non è che non ci accontentiamo, è che cerchiamo ogni tanto di variare. Abbiamo messo qualche volta qualche modifica anche nella Coppa d'Oro e poi abbiamo capito che magari era più stabile fare un circuito finale uguale. Quindi valutiamo sempre cosa può accadere nelle varie corse, anche vedendo gli ordini d'arrivo e vedendo come vanno i ragazzi. Ma tornando alla Coppa Rosa dell'anno scorso, eravamo qui insieme e dobbiamo dire che l'anno scorso il ritmo fu veramente molto blando per tutta la corsa, quindi fu più semplice anche per atlete un po' meno preparate di arrivare all'arrivo. Quest'anno, lo abbiamo notato, non sono state medie elevatissime, però le ragazze si sono impegnate fin dai primi chilometri, quindi probabilmente le atlete un po' meno preparate sono trovate subito in difficoltà, sono state subito costrette a muoversi in un certo modo. Sì, infatti, me l'hanno detto anche gli addetti, quelli che erano in corsa, c'erano dei gruppi di ragazze che effettivamente si trovavano in difficoltà sui tratti in salita. Essendo un circuito molto mosso, probabilmente qualcosa, e anche avendolo corso a un ritmo un pochettino più impegnato rispetto agli anni scorsi, sicuramente ha fatto molto più selezione. Intanto le atlete stanno per terminare il secondo giro, ormai dovremmo essere vicini, no? Sì, sì, siamo qui sul rettilineo d'ingresso a Borgo Vessugana, siamo a un chilometro e mezzo dall'arrivo. Quindi un chilometro e mezzo dal secondo passaggio, non siamo a metà gara perché l'ultimo giro è leggermente più lungo, però praticamente ormai possiamo dire che abbiamo raggiunto la metà gara della corsa, con il gruppo sempre comparo. La corsa in effetti durerà su intorno ai 50 minuti, non credo molto di più. Sono gare per gli esordienti primo anno, mi sembra anche una distanza. È una misura giusta da fare, proprio anche perché possiamo poi avere i tempi giusti anche per le altre corse. Anche perché abbiamo già visto, si stavano preparando gli esordienti del primo anno, perché ora seguono un attimo battente e le altre tre gare. Sì, diciamo che è quasi un ritmo da gare per giovanissimi, cioè finisce una batteria e ne inizia un'altra. Dobbiamo fare così per stare nei tempi e ovviamente la chiamata dei 200, quasi 200, che correranno nel primo anno avviene molto anticipata, proprio consentire a tutti di schierarsi e poi partire in orario. Tanto ormai gli atleti stanno per tornare al centro? L'Atleta della Valcar, abbiamo visto in prima posizione, quindi gruppo che si allunga in questa fase. Noi siamo in zona passaggio, ripeto, le atlete non passeranno sotto lo striscione di arrivo, ma passeranno in fondo a rettilineo, quindi a 200 metri dall'arrivo. Sì, a 120 metri dall'arrivo. Adesso stanno affrontando il tratto in fondo al rettilineo. dove c'è l'ambulanza c'è la svolta e adesso fanno la svolta verso il centro di Borgo, verso il centro storico. Sì, ancora una volta come al giro precedente, gruppo molto allungato. Vediamo con la nostra telecamera fissa, stiamo seguendo gli atleti che devono rallentare molto per affrontare questa curva a sinistra. Comunque ancora tutte assieme. gruppo molto allungato. Vedi, le ultime stanno facendo la curva, le prime sono già all'inizio della nostra pulisarita. Sì, è ovvio che la corsa si allunga in questo tratto. Può essere anche un'occasione per fare qualche azione, perché vedo che la percorrono in maniera molto decisa, questo pezzo. Vedo comunque la campionessa italiana sempre nelle primissime posizioni. Però vogliono tenere comunque un ritmo alto, non stanno andando a ritmo basso, stanno continuando con un bel ritmo. Anche superato il centro storico, stanno andando piuttosto forte. Sì, perché il gruppo è sempre molto allungato. Direi che qui a Borgo Valzugana c'è sempre spesso la voglia di mettersi in mostra. C'è la voglia di farsi vedere, perché ci sono tutti, perché c'è un gran pubblico, perché ci sono anche gli atleti delle altre categorie che sono presenti e li seguono. Quindi c'è il modo di volersi far vedere. Diciamo che è una bella occasione per vedersi tutti nella stessa giornata di gara. Gli italiani, per esempio, le ragazze corrono un giorno diverso, i maschi un altro giorno. Qui corrono tutti lo stesso giorno, a meno in categorie esordienti. E quindi si trovano una volta tutti quanti. Ma a proposito di feste a Borgo, stasera i fuochi ci saranno o no? Stasera ci sono i fuochi d'artificio offerti dalla PT Valzugana nel comune di Borgo Valzugana. A 22, come da tradizione, sparati dalla zona antistante Casteltervana. Che vediamo sullo sfondo. Ma la scritta? La scritta c'è, è proiettata per una scelta che abbiamo fatto insieme all'amministrazione comunale. È stata rinnovata e quindi sono state tolte le lampadine incandescenza che consumano. È stata sostituita da una proiezione delle lettere luminose sulla torre principale del castello e a basso impatto di consumo energetico. Quindi cercando anche di risparmiare qualcosa sulla proiezione delle... sulla visibilità delle lettere. E con quanto la tenete la scritta? Allora, viene accesa normalmente la settimana o i giorni prima della coppetta e poi viene spenta la domenica poi sera della Coppa d'Oro. Quindi per chi passa da Borgo Valzugana vedere la scritta Coppa d'Oro è sinonimo che in questo momento in questo periodo il ciclismo giovanile è qui appunto. È qua, sì. La cerchiamo di tenere praticamente accesa quei 15 giorni per... come richiamo per tutti che è il periodo della Coppa d'Oro. È il periodo della Coppa d'Oro. Intanto vediamo ormai le atlete stanno affrontando il terzo giro. Anche in questo caso la natura è piuttosto sostenuta. Abbiamo visto rare volte il gruppo è tutto appallato quindi sono piuttosto allungate ci cerca di tenere le posizioni e il prossimo giro tra poco si svolterà per la salita. Il prossimo giro si svolterà a destra e ci sarà lo strappo. E qui? No, è un po' più avanti. È un po' più avanti. Sì, è un po' più avanti. C'è ancora un piccolo strappetto questo che stanno facendo una discesa abbastanza ripida e poi un altro strappetto e infine ci sarà la svolta sulla destra. Tanto ripeto gruppo ancora compatto tra le ragazze tra le donne esordienti vogliamo ricordare tra le atlete che hanno ottenuto i migliori risultati Iolanda Sambi della Calderara sette vittorie quattro vittorie per Viola Invernizzi cinque vittorie per Elena D'Agnese tre vittorie per Carlotta Ronchi tre vittorie anche per Asia Vanuzzo tre vittorie per Martina De Vecchi quindi insomma le pluri vittoriosi ci sono tutte vedremo oggi chi riuscirà a conquistare il successo tanto ripeto gruppo sempre allungato per ora nessuna fase particolare e ormai è un po' questa la tradizione della corsa Sì i giri diciamo pianeggianti o quelli iniziali sono una preparazione a quello che succede poi dopo è più facile vedere magari nei maschi qualche azione qualche scatto qualche qualche movimento nelle ragazze magari della situazione proprio perché si conoscono anche di più secondo me visto che corrono molte volte assieme è più difficile che qualcuno prende l'iniziativa mi sembrava che fosse in questo momento no un po' più avanti ma siamo nella zona proprio della salita sono problemi probabilmente con i collegamenti è un po' in ombra probabilmente dal punto di vista del collegamento telefonico delle celle per il momento il clima sta tenendo dopo la grande paura di ieri quando sembrava che oggi dovesse piovere tutto il giorno per il momento no per il momento sembra che si tenga e dovrebbe anche tenere c'era qualche possibile annuvolamento in orario serale con possibili temporali però bisogna vedere com'è poi la situazione climatica qua del posto perché i temporali si scaricano e si scaricano in poco tempo insomma le gare degli esordienti si svolgeranno a parte il tratto in salita tutte sullo stesso percorso quindi diciamo che avremo modo di vedere sempre di vedere sempre le atlete più o meno ogni poco qui in zona in zona passaggio in fondo in fondo a rettilineo ecco il fatto che non passino più sotto l'arrivo però diciamo che ci ha fatto perdere qualcosa si è evidente lo sapevamo che il fatto di passare sotto l'arrivo creava sicuramente l'attenzione qui sul rettilineo d'arrivo è altrettanto vero che i passaggi avvengono veramente a pochissima distanza quindi la gente il pubblico comunque si sposta va a vedere poi ritorna qui sul rettilineo d'arrivo in occasione della volata o dell'arrivo finale questo però da un lato ci toglie i continui passaggi dall'altro ci consente di avere un attimino di più di tempo per le premiazioni perché così possiamo nel frattempo parte l'altra gara e continuiamo la cerimonia di premiazione qua due piccole interviste con i vincitori un po' di tranquillità nel fare le operazioni di premiazione sì anche perché voglio ricordare che al termine di questa gara alle ore 15 prenderanno via gli esordienti maschi del primo anno quindi i tempi sono veramente ristretti soprattutto per quello che riguarda la categoria del secondo anno perché i chilometri sono di più in questo caso sono di più certo sono una quarantina di chilometri avere solo un'ora di tempo non è assolutamente ci auguriamo che vadano forte sì di solito la datura è sempre elevata negli esordienti ripeto come ho detto prima secondo me la differenza è che le ragazze si conoscono molto di più corrono più assieme magari in più occasioni mentre i maschi si trovano veramente poche volte assieme a correre intanto vediamo nella prima posizione abbiamo visto col 67 Maddalena Pascut della Conscio Pedale del Sile con Sciu Pedale del Sile che ha vinto con la gara riservata alle donne allieve ma anche a livello di donne esordienti è un buon gruppo di ragazze come Francesca Ferraro e altre che hanno dimostrato di avere dei buoni numeri in categoria sono società che ci sono sulle ragazze fanno un po' da collettore anche del bacino del serbatoio delle zone quindi è la scelta anche migliore per consentire le ragazze di avere una bella attività fare assieme ad altri e mettere insieme una squadra che faccia il femminile intanto le ragazze stanno per terminare il terzo giro manca circa un chilometro poi suonerà la campana dell'ultimo giro suona della campana e ultimo giro con la salita di Ferdberg Ferdberg esatto Ferdberg quindi abbiamo trovato anche il nome alla salita e vedremo i tempi verificheremo poi se c'è la possibilità prima del termine della giornata domattina vedo di trovarlo sentiamo ritrovare i tempi vedere quanto ci vuole a percorrere questo tratto di salita ne parleremo poi e a proposito di salite il percorso invece della Coppa d'Oro domattina è quello che mi sembra ormai sia diventato tradizionale si va avanti per questa strada è il percorso tradizionale abbiamo un bel tratto in linea nella parte iniziale di gara che arriva a 50 km è un tratto che ci porta da Borgo fino a Pergine Val Sugana poi ritorno di nuovo a Borgo e da lì poi il circuito che viene ripetuto tre volte dagli atleti con ogni volta la salita di Telve nei primi due giri sino alla salita dove hanno scolinato oggi le ragazze e nell'ultimo sino al centro abitato la piazza principale di Telve fino ad arrivare poi a Borgo dicevo anche la scelta di mettere inizialmente lo stappo di Roncegno credo che sia servito anche per evitare cioè per permettere di allungarsi un po' la corsa sempre stata un po' così la logica nostra quella di allungare la corsa e cercare di avere una corsa un pochettino più lunga meno compatta meno a rischio anche per consentire a chi ha più di recuperare posizioni di avanzare di mettersi nelle prime posizioni del gruppo ma anche perché devo dire che qualcuno a volte ha detto ma se parti quattrocentesimo abbiamo visto anche nella scorsa edizione atleti che erano partiti oltre il 300 che già nella prima fase dopo poco al termine della salita di Roncegno erano davanti quindi credo che sia una questione anche di mentalità e di voglia di voler tra l'altro il tratto in linea essendo molto lungo 25 km e 25 km a tornare consente dei recuperi in gruppo quindi non è che chi parte del 400 resta in fondo al gruppo può tranquillamente avanzare qua siamo all'ultimo giro suono della campana a questo punto suono della campana inizia l'ultimo giro ultimo giro è leggermente più lungo gli atleti al momento hanno percorso 19 km e mezzo e al termine ne avranno percorsi 27,400 quindi 7 km e 9 anziché i 6 e mezzo che hanno percorso nei giri precedenti sì c'è il tratto di salita e la discesa corrispondente quindi comunque devo dire che anche in questo caso l'andatura è stata abbastanza sostenuta sempre le ragazze hanno cercato di diciamo di mantenere un buon ritmo sì sì hanno un buon passo perché sono passati praticamente 35 minuti dall'inizio di corsa e quindi sono andate bene molto bene molto forte ma il fatto di seguirle anche tutta la gara diciamo non è rimasta così noiosa come a volte si potrebbe pensare perché gli atleti diciamo hanno fatto piuttosto presto arrivare alla fase decisiva della corsa ora tra poco ci saremo con con l'inizio della salita ancora 2 km e mezzo sì 2 km e mezzo circa e poi c'è l'inizio della salita speriamo che le immagini riescano a rimanere stabili perché la zona purtroppo abbiamo visto prima è proprio la zona dove staccano dobbiamo dire che la salita l'abbiamo seguita piuttosto bene quella stamattina di Telve proprio abbiamo assistito al momento in cui Chantal Pegolo ha allungato proprio è stato diciamo chi ci ha seguito ha visto proprio le fasi decisive ha potuto seguire le fasi decisive della corsa ho l'impressione che dietro questo primo gruppo allungato però questo primo gruppo diciamo tutto largo sulla strada dietro siano molto molto allungate gli atleti e l'andatura è molto sostenuta sì perché l'andatura adesso aumenterà ancora di più per prendere la salita nei primi posizioni giustamente la nostra moto rimane abbastanza avanti per evitare rischi per gli atleti perché non fare in maniera che tutto si svolga in maniera regolare sale un po' la strada ora perché le vedo mi sembra sia un po' rallentata l'andatura sì sale leggermente non è proprio una vera qui adesso c'è l'inizio di una piccola discesa e poi un tratto un po' più in salita qui siamo alla zona della chiesa di Onea chiesa fuori fuori dal paese ecco dicevi la salita a 600 metri sono sì sono circa 650 metri però ha una buona pendenza circa media sarà l'8% però ci sono punti al 15% nel tratto finale ecco nel 2018 se non mi sbaglio invece il percorso era diverso con una salita diversa sì perché affrontavamo in senso contrario e quindi si faceva una salita dal centro sportivo di Roncegno sino all'abitato di Roncegno e saliva un pochettino più graduale meno ripida nella parte finale e più o meno della stessa lunghezza circa 800 metri era leggermente diversa le difficoltà sono rimaste più o meno più o meno sono simili questa fa un po' più di selezione secondo me perché il tratto più impegnativo è un pelettino più duro e è l'ultimo è l'ultimo la parte finale quindi anche quello intanto vediamo un gruppo molto allungato in questa fase andatura piuttosto sostenuta quindi stiamo per stanno pedalando un po' in salita e probabilmente stanno tenendo su l'andatura proprio per tenere il gruppo per prendere poi l'inizio della salita stiamo aspettando ormai il momento decisivo della corsa ripeto ormai ultimo giro mancano a questo punto meno di sei chilometri all'arrivo quindi dovrei al momento in cui inizierà la salita ne mancheranno ne mancheranno meno di ne mancheranno quattro e novecento quindi ormai siamo vicini adesso c'è nel lungo della ragazza della Vicar è il numero cinquantacinque ha allungato in testa Martina De Vecchi Martina De Vecchi ha allungato Martina De Vecchi tre vittorie all'attivo per lei proprio nel lungo il gruppo si sta riportando sotto però mi sembra che sia molto decisa abbia voglia di cercare di fare il vuoto come vedi per il momento non c'è nessuna che si incarica sembra che adesso rientra ora un'altra sta provando qualche altra ragazza dal gruppo e la sopravanzerà sicuramente ecco tra poco qui si scollina un attimo c'è un piccolo strappo discesa pianura e subito a destra l'inizio dello strappo e qui dove staccava prima purtroppo si stacca ancora quindi aspettiamo vediamo se sarà possibile vedere cosa succede nel strappo in salita ormai si manca pochissimo all'inizio della salita si sta per decidere la coppa quindicesima edizione coppa di sera riservata donne esordienti primo anno ormai siamo nelle fasi decisive della corsa vedremo quello che succederà appena torneremo con le nostre immagini della corsa abbiamo visto allungato Martina De Vecchi eccola l'imbocco della salita gruppo compatto gruppo compatto comunque mi sembra che sia piuttosto allungato in questa fase ora vedremo se torneranno le immagini è una zona difficile da coprire si è la zona diciamo più distante del circuito probabilmente anche la posizione un po' sotto la montagna adesso si vede bene comunque eccoci sullo strappo inizia più graduale poi nella parte finale diventa più impegnativo ancora tutti assieme per il momento nessuno prende l'iniziativa prende l'iniziativa troppo presto potrebbe essere anche controducente perché dopo il fatto che la parte più difficile sia l'ultima è quella che può essere dove bisogna avere più gambe insomma ah sì lì chi ha più gambe va chi ha più gambe va e adesso iniziano le scritte per terra fatte dai ragazzi la sera fatte dai ragazzi sì sì per gli altri amici ragazzi eccetera adesso comincia ad essere più dura qua e fra un po' c'è un direttore sportivo che vuole correre che stava cercando di assistere alla propria atleta però insomma in maniera un po' tosto pericolosa pericolosa ecco qui ci sono le stalle e qui veramente si fa più dura adesso vediamo se qualcuno riuscirà qualche ragazza riuscirà a avere il passo per aumentare al momento nessuno ci prova diamo un allungo sulla destra si alza sui pedali ma al momento sembra che non sia uno scatto deciso mancheranno 100 metri da scollinare quindi ormai c'è un'azione oppure poi restano tutte lì andiamo ora lungo al centro ecco adesso c'è lo scollinamento qui qui è la fine della salita finita la salita abbiamo visto un atleta ha preso qualche metro di vantaggio allora si tratta tezzere dell'eletta sofia tezzere della eletta cycling sofia tezzere dell'eletta trentino cycling academy qualche metro di vantaggio per lei però mi sembra si stia rialzando non non la discesa qui è abbastanza ripida però bisogna spingere forse recupera cioè non mi sembra al momento che pedali come stava facendo stamattina Chantal Pegolo però diciamo si mette in posizione quindi Sofia Tezzere insiste nell'azione vediamo se riuscirà a mantenere il vantaggio però era veramente minimo allo scollinamento saranno stati veramente 20 metri 50 metri due vittorie all'attivo per lei in questa prima parte di stagione intanto vediamo Moreno Martini in fondo a rettilineo di arrivo si è pronto per ecco che sembra che siano rientrate altre quattro ragazze sulla tesla in cinque al comando ma è finita la discesa finita la discesa è soggetuto pianura fino all'arrivo cinque unità cinque unità al comando dunque anche le altre non mi sembravano distanti ora vedremo nel tratto in pianura eccole qua sono cinque ragazze ci sarà sicuramente Sofia Tezzere raggiunta dalle altre quattro la campionessa italiana tricolore in seconda posizione infatti vediamo è l'Aurora Nadali numero 39 della Lucbo Volone abbiamo visto la campionessa italiana poi vediamo la Tezzere col 6 la 39 Nadali la Bonassi con numero 1 poi vediamo le altre due atlete 28 forse 29 29 Vivienne Cassata della Busto Garolfo che avevamo visto anche nelle primissime fasi nelle prime posizioni poi ci dovrebbe essere un'altra atleta della Conscio un'altra atleta della Conscio pedale del Sile eccole qua Nadalia Aurora col 39 De Angelis Isabella 26 numero 1 Bonassi Anna numero 6 Tezzere Sofia e numero 29 Piscopo Chantal quindi era Isabella De Angelis col numero 26 l'atleta del no qui mi dà un'atleta dell'Ossanesga Ossanesga si aveva la maglia arancione ho visto prima sembrava di aver visto una maglia comunque sono sono in 5 adesso sono un chilometro e mezzo dall'arrivo quindi vedremo se qualcuna tenterà di allungare vediamo un allungo però si porta davanti ma la campionessa italiana reagisce immediatamente si sta sempre lì nelle prime due tre posizioni si è Isabella De Angelis che ha provato a anticipare in caso di arrivo allo sprint sarà difficile lottare con Anna Bonassi ultimo chilometro per le 5 ragazze abbiamo visto in salita il tentativo di Sofia Tezzel le hanno reagito in 4 quindi 5 al comando sembra ormai siamo all'imbocco di via Roma siamo ormai nelle fasi veramente finali finali della corsa e si giocheranno probabilmente queste 5 perché dietro non si vede rientrare nessuno al momento e poi ormai siamo siamo dentro Borgo siamo siamo ai 500 metri dall'arrivo anche perché se la nostra moto è dietro vuol dire che c'è lo spazio per le 5 quindi saranno loro a contendersi questa 15esima coppa di sera vediamo che tenta di allungare c'è che cerca di prendere posizioni prima della doppia curva e poi la curva finale bisogna affrontare davanti la posizione tenere la posizione vediamo abbiamo visto un atleta scattava ma la campionessa italiana ha subito chiuso ed eccoci in corrispondenza all'ultima curva sul rettilineo eccole lanciata la volata vediamo la campionessa italiana e la campionessa italiana sembra avere la meglio ed è lei che vince Anna Bonassi vince Anna Bonassi grande favorita della vigilia ha vinto su Sofia Tezzela mi sembra seconda o terza comunque ora vedremo la campionessa italiana ha vinto molto bene sulla volata finale è la grande favorita è riuscita a confermare dobbiamo dire che ha sempre dato l'intenzione di avere sotto controllo la situazione si è ha sempre controllato sin dai primi chilometri nelle prime posizioni e decisamente dobbiamo dire che assieme alle altre quattro che con lei sono arrivate in fondo ha decisamente ha dimostrato e comunque sul podio ci siamo anche noi come squadra perché l'eletta è un po' la costola del 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 Borgos che è una squadra femminile ad esso e la Caterina Giurato quindi siamo siete sul podio siamo sul podio siamo sul podio anche voi vabbè allora aspettiamo ora le protagoniste appena possibile ti lasciamo alla premiazione grazie e ci sentiremo dopo per per la gara riservata agli esordienti maschi primo anno quindi la la gara riservata alle donne esordienti primo anno ha visto il successo della campionessa italiana Anna Bonassi che si è imposta allo sprint un uno sprint dobbiamo dire che ha dimostrato di dominare nelle confronti delle quattro avversarie che con lei erano immerse nella fase finale dopo la salita del Ferderberger quindi è emersa vediamo Anna Bonassi per lei tredicesima vittoria stagionale e dobbiamo dire che nell'ultima parte della stagione Anna Bonassi ha dimostrato veramente di avere una grandissima condizione che ha confermato anche oggi campionessa italiana vincitrice della quindicesima coppa di sera quindi veramente una ottima stagione per lei dopo la misurazione dei rapporti avremo modo di parlare come abbiamo fatto precedentemente con le prime tre arrivate vediamo ricordiamo tra le prime arrivate Aurora Radali della Lucca Povolone Sofia Tezzele della eletta Trentino Sagling Academy Poi l'atleta dell'Ossanesga Isabella De Angelis quindi stiamo aspettando dopo la misurazione dei rapporti di avere qui le prime tre arrivate di questa quindicesima edizione della coppa di sera riservata alle donne esordienti primo anno mentre intanto si stanno preparando prenderanno il via tra dieci minuti gli esordienti maschi primo anno anch'essi nati nel 2009 che saranno al via ripeto cara che prenderà il via alle ore 15 vediamo le atlete alla misurazione dei rapporti con il 39 Aurora Radali della Lucca Povolone sta controllando i rapporti Aurora Radali è ora la volta della campionessa italiana Anna Bonassi di controllo rapporti abbiamo visto anche l'atleta dell'ossanesca Isabella De Angelis ora avremo modo di parlare con le prime tre arrivate ripeto gli atleti stanno facendo la misurazione dei rapporti e una volta terminata la misurazione dei rapporti avremo modo di parlare con le prime tre arrivate successo per Anna Bonassi ecco la campionessa italiana Anna Bonassi intanto stanno terminando la misurazione dei rapporti ci ha già raggiunto qui accanto la campionessa italiana Anna Bonassi tredicesima vittoria stagionale un 2002 veramente incredibile il tuo è stata veramente una bella stagione perché così tante vittorie non me le aspettavo e soprattutto così importanti senti nell'ultimo periodo abbiamo visto addirittura sei riuscita a vincere anche le gare assolute quindi veramente hai una grandissima condizione è una grandissima condizione perché nonostante i continui magari qualche perdita comunque qualche volta in cui non ce la facevo sono sempre stata a tutti gli allenamenti ho sempre perseverato su tutti gli allenamenti di squadra e tutto ciò mi ha portato a questo mi sembra anche che tu abbia una grande convinzione di andare forte un po' sì perché lo stanno tanto da tutti i risultati e di ciò ne vado anche fiera senti ho detto prima campionessa italiana hai vinto la Coppa di Sera a questo punto una stagione così dopo una stagione così cosa ti aspetta? allora mi aspetterò sicuramente un calo perché dopo una stagione così agitata mi aspetterò sicuramente un calo però comunque penso la forma di tenerla abbastanza netta come adesso diciamo c'è già grande gioia Mazzano sta festeggiando qui ti aspettavano tutti erano venuti in forza a vederti insomma veramente gli ha dato una grande soddisfazione a tutti veramente sì perché anche tanti della squadra erano a casa in diretta e anche all'italiano è successa la stessa cosa e tanti mi hanno detto che stavano piangendo quindi anche oggi mi aspetto sei un po' emozionata anche te esatto un po' sì senti a chi la dedichi questa vittoria? questa vittoria la dedico ancora al mio allenatore Domenico Fagoni e soprattutto anche a Mattia ed Elena che sono quelli che mi seguono momentaneamente lo dedico a loro perché sono veramente loro che mi aiutano a arrivare a ciò e mi hanno portato veramente tantissime soddisfazioni grazie a questo Di nuovo complimenti, grazie e ti lasciamo alla premiazione Grazie mille Pasquit Maddalena Maddalena Pasquit seconda arrivata oggi sei andata forte ma mi sembra che Anna oggi aveva qualche cosina ancora più sì io in volata so di non essere proprio il top e infatti avendo Anna in gruppetto sapevo che cioè non avevo tante possibilità però ho cercato di dare il meglio di me e sono contentissima così comunque hai affrontato la curva in testa sì perché sapevo che se la prendevo indietro non avevo un'ottima volata quindi andava bene prenderla in testa e poi magari dare tutto nel finale Comunque sei andata veramente forte quando siete rimaste in cinque ecco ho visto che ci è stato qualche allungo non hai mai provato, pensato di allungare prima dello sprint? No perché comunque non avevo più e sapevo di restare là in gruppetto almeno ci davamo i cambi avevo la possibilità di arrivare almeno dentro le cinque Ti sei resa conto che dietro non rientrava più nessuno? Sì allora inizialmente finita la discesa pensavo che rientrassero infatti ho incitato anche le altre a dare i cambi e a continuare quello che stavamo facendo poi però quando mancava poco mi sono resa conto che non riuscivano più a entrare che quindi eravamo arrivati noi cinque Com'era la salita? Come l'hai trovata quest'ultimo giro? Strappo di salita? Ero molto titubante però l'ho presa davanti l'ho fatta tutta davanti in modo che non avevo nessuno di cui preoccuparmi e sono scollinata seconda terza e quindi insomma è andata bene la salita mi sono stupita anch'io di me stessa Un gran bel risultato non è venuta la vittoria ma credo sia soddisfazione lo stesso Sì 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 Grazie a te Ti lasciamo alla premiazione Grazie Ed ora la terza arrivata Sofia Tezzele terza arrivata ci hai provato in salita hai cercato di fare la differenza ma non ce l'hai fatta E ho provato poi in discesa sono anche là è andata tutta poi ho visto che mi stavano recuperando quindi ho deciso di stargli a ruota così e riuscivo a arrivare qua un po' più Senti hai attaccato nell'ultimo pezzo non hai pensato magari forse provavi qualche metro prima riuscivi a prendere un vantaggio superiore che magari ti poteva sì ma comunque sono contenta anche di essere partita là perché cioè è secondo me è un buon soddisfatta quindi sì per la volata meglio non potevi fare o poi hai fatto qualche errore no forse dovevo entrare in curva un po' qualche posizione prima però non sono riuscita comunque ti vediamo soddisfatta ti fa molto piacere praticamente diciamo la tua squadra l'eletta Trentino qui è quasi di casa no? sì sì infatti anche per quello molto felice perché corro in Trentino e ho fatto una bella gara grazie ti lascio alla premiazione grazie a te quindi ricordiamo l'ordine d'arrivo prima Anna Bonassi seconda la Pasquit seconda Maddalena Pasquit terza Sofia Tezzere quarta Isabella De Angelis quinta Aurora Nadali queste le prime cinque arrivate ripeto si sono avvantaggiate in cinque nella nella parte finale della corsa sull'ultimo strappo di salita sul Ferdberg quindi si sono avvantaggiate in cinque sono si sono contesse allo sprint è il successo quindi sono loro che hanno buongiorno si allora direttore sportivo la direttrice il direttore sportivo di Anna Bonassi Anna vi ha dedicato vi ha dedicato vi ha dedicato la vittoria devo dire che quest'anno veramente mi ha fatto vivere grandi soddisfazioni eh si è stato un vero orgoglio era una gara alla quale tenevamo tanto vabbè dopo l'italiano ovviamente però è stata speciale ugualmente veramente bello eh si si è stata una stagione fantastica è stato delle grandi soddisfazioni intanto voglio ricordare eh mentre abbiamo loro qui che è partita in questo momento la gara riservata agli esordienti maschi del primo anno dicevo vi ha arrivato tante soddisfazioni anche perché soprattutto dopo il campionato italiano credo che abbia dimostrato di aver raggiunto una maturità che forse è una tranquillità nel correre che forse prima non aveva sì forse è più consapevole delle sue potenzialità e avere quella maglia le ha dato una marcia in più sicuramente nel gruppo rispetto grande soddisfazione ma soprattutto credo che sia una ragazza che può avere anche un futuro veramente di per fare bene anche nelle categorie superiori le potenzialità le ha di sicuro deve solo crederci e continuare a impegnarsi come ha fatto quest'anno perché ha messo davvero il 110% anche stimolata da voi tutti e due sì sicuramente ci proviamo ci provate grazie continuate così perché visto i risultati insomma credo che una stagione 2022 è migliore non potevate fare decisamente grazie quindi gran merito al Mazzano per il lavoro svolto e per il successo ottenuto con Anna Bonassi che dopo il successo nel campionato italiano vince anche la Coppa di Sera riservata alle donne esordienti primo anno ora stiamo seguendo la gara dei maschi che avranno la stessa dinamica esatta e la gara femminile cioè tre giri iniziali e un quarto con la salita di Ferdberg la salita dei cavalli come ci diceva prima Ugo Segnana che i corridori affronteranno in questo caso sono duecento i corridori al via ora dobbiamo dire in questo caso tutto il fiorfiore del ciclismo degli esordienti della categoria esordienti primo anno è presente qui come del resto anche a livello femminile però ripeto duecento i partenti per la categoria esordienti primo anno quindi veramente tutti i migliori sono qui a partire dal campione italiano Andrea Indrizzi della città di Marostica che parte con il numero uno sono in realtà 199 poi corridori al via anche in questo caso tre volte un circuito ondulato e poi l'ultima volta il tratto in salita gara attesissima anche questa oggi è la seconda gara riservata alla categoria esordienti dopo quella femminile esordienti primo anno ora esordienti secondo anno maschile sono partiti ad andatura incredibile sin dal primo giro vediamo velocità sostenutissima si cerca di tenere le posizioni le prime posizioni del gruppo quindi andatura molto molto veloce sin dal primo chilometro sono 2700 i chilometri che 27 400 i chilometri da percorrere anche in questo caso per la gara esordienti maschi primo anno tre giri di 6 chilometri e mezzo e l'ultimo leggermente più lungo mentre vediamo intanto la premiazione della della gara delle donne esordienti primo anno qui sul palco di Borgo Valzugana con le nostre immagini stiamo seguendo la premiazione delle donne esordienti primo anno mentre è in corso la gara riservata agli esordienti maschi primo anno quindi una gara dietro l'altra come ci diceva prima Ugo Segnana veramente un un grande lavoro quello che stanno facendo gli organizzatori del veloce club Borgo tornando alle gare alle prime due gare dobbiamo dire che con scio pedale del Sile che ottiene una vittoria nella gara delle donne allieve e un secondo posto nella gara donne esordienti primo anno quindi con scio pedale del Sile grande protagonista qui a Borgoval Zugana chiamo ora è proprio l'atlete Pascut che viene premiata ed ora la vincitrice Anna Bonassi lasciamo la parola alla speaker che chiama sul palco la vincitrice grazie 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 Ecco Annabunassi che viene chiamata sul podio. Ecco Annabunassi. Ecco Annabunassi. Per tanti addetti e lavori è un grande impegno per tutti. Però un impegno è ripetente. Ora vediamo l'ordine d'arrivo. No, qui c'è un errore. Probabilmente abbiamo visto donne esordienti primo anno. E' Anna Bonassi, la vincitrice. Seconda la Pascut. Ora vediamo se ci verrà riproposto dalla nostra regia. Tanto Coriandoli è festa sul palco. Siamo tornati con le immagini sulla corsa. Gruppo compatto. Gli atleti stanno percorrendo il primo dei quattro giri. Vediamo gruppo compatto. Ormai manca circa un chilometro e mezzo al passaggio qui in zona arrivo. Ripeto, i dori passano a circa 150 metri dall'arrivo. In fondo a rettilineo. Il gruppo è sempre compatto. Grande controllo. Si cerca di tenere le prime posizioni per cercare di affrontare la seconda parte, quella più tortuosa. Rischiando il meno possibile. Quindi gruppo compatto. Questo primo giro. Mentre intanto sta terminando la premiazione delle donne esordienti primo anno. Sono partiti forte, però ora siamo nella seconda parte del circuito e vediamo come è successo prima. Il gruppo si allarga. Ormai si tiene la posizione in questa fase. Quindi per ora... Ebbè ma qui siamo un po' al limite della capienza del circuito perché il 192 è un bel numero. E sicuramente sarà corsa combattuta proprio perché devono mantenere le posizioni davanti. Sanno che la parte è stretta. I direttori sportivi le avranno consigliato. Tutti gli dicono di stare davanti. Tutti gli dicono di stare davanti perché per forza eviti i problemi. E quindi automaticamente la natura aumenta. Non c'è niente da fare. Vediamo poi soprattutto nella parte maschile essendo come dicevo prima quasi 200. Quindi ancora di più si è obbligati a lottare per tenere le posizioni. Sì sicuramente. Poi i ragazzi sicuramente avranno voglia di farsi vedere proprio di essere lì, di stare nelle prime posizioni e cercare di giocarsi la corsa fino alla fine. Ma guarda, tornando alla gara delle donne esordienti, quello che ho notato dopo l'arrivo anche dalle parole delle ragazze, sì è chiaro che si vuole vincere tutti. Però anche salire sul podio di Borgo Valzugana dà una gioia che credo in altre occasioni magari vedi l'atlete di secondo, terza arrivato. Spesso è terminato il primo giro in questo momento. In questo momento termina il primo giro. Terminato il primo giro ne mancano ancora tre, ripeto due esattamente uguali a quello che abbiamo fatto ora e l'ultimo con la salita di Ferdberg. Ferdberg. La salita dall'evocazione diciamo belga, un po' nordica. Direi che per certe caratteristiche, percorsi con strade strette, tortuose, c'è la voglia di... Sì, Stefano Casagranda che ha fatto il professionista a 12 anni eccetera e ha fatto tutte le classiche del nord, lui dice sempre se si abitano a correre in queste strade poi da professionisti le trovano anche di peggio. Quindi vuol dire che è tutta una scuola, tutto un modo di stare in corsa, di riuscire a capire come si lima, come si sta a ruota, come si sta nelle prime posizioni. Per lui dice è tutta una scuola di ciclismo. Sì, credo che oggi diciamo si fanno una bella esperienza in questa occasione, sicuramente. Vediamo gruppo allungato, ripeto, hanno iniziato da poco il secondo giro, al momento non abbiamo niente da dire per quello che riguarda le fasi agonistiche della corsa, se non che anche in questo caso e anche in questa occasione la festa che si vive a Borgo Valzugana ormai è una tradizione. Sì, è una tradizione, credo che per tutti sia un appuntamento segnato, poter essere presenti, ripeto, spiace non poter dare la possibilità a tutti quelli che si iscrivono di correre. Il limite di 200 è anche giusto in questo caso, nel senso che le strade sono dimensionate per questo numero di ragazzi. Abbiamo anche pensato come poter fare qualcosa di diverso, magari creare una sorta di batteria. non è possibile, nel senso che la coppa di sera è una, non puoi fare numeri pari, numeri dispari, capito? Diventa una cosa, cioè dei giovanissimi lo puoi fare e ci sono le batterie, ma nella gara esordienti non è così. Abbiamo pensato anche quello, però purtroppo è così, 200 è il numero, cerchiamo di darci un criterio per poterli ammettere e proseguiremo anche il prossimo anno con la linea di quest'anno. Dobbiamo anche dire che per quello che potevate, abbiamo visto, per la categoria delle donne esordienti, già ormai dal 2017 le avete divise primo e secondo anno. Secondo noi era giusto proprio dare la visibilità al primo anno, dare la visibilità al secondo anno. Molte volte corrono assieme loro durante la stagione, quasi sempre diciamo, e quindi secondo noi era giusto qua in questa occasione fare due gare distinte. Un po' come avviene ai campionari italiani, ma soprattutto da quest'anno voglio ricordare che le due classifiche sono separate effettivamente anche dalla federazione, quindi c'era un'occasione, qui ci sono i numeri per farlo, no? In altre occasioni purtroppo mancano i numeri. Chiaro, abbiamo dovuto anticipare le partenze, mentre negli anni in cui si correva una categoria in meno si poteva anche partire mezz'ora o un'ora dopo, abbiamo dovuto anticipare e fare una gara in più. Però ben volentieri perché è giusto che le ragazze, che comunque ci premiano con dei numeri importanti ogni anno, perché siamo stati anche in anni in cui c'erano 100 partenze del primo anno e 100 partenze del secondo anno. Adesso ce ne sono 80, voglio dire, ci sono bei numeri e quindi è una bella gara comunque con 80 ragazze. Intanto vediamo un allungo in testa al gruppo, però al momento il gruppo sembra non dare spazio. Comunque questi allunghi, oltre che allungare il gruppo, servono anche a tenere veramente alto ritmo. Eh sì, non cala mai perché nel momento in cui cala qualcuno scatta, riaumenta nuovamente, la corsa rimane sempre bella tirata e i ragazzi si allungano. Tra l'altro, guardando indicativamente la media, mi sembra che gli esordienti maschi stiano andando ancora più forti abbastanza di quello che hanno fatto le femmine prima. Sì, credo che siano andature anche favorite un po' proprio dal numero dei ragazzi. Dietro spingono per passare davanti, quelli davanti aumentano e di conseguenza l'andatura è sempre bella tirata. Ripeto, per coloro che si fossero collegati, che ci seguissero ora, quindicesima Coppa di Sera, gara esordienti primo anno, ci troviamo a Borgo Valzugana, organizzazione del Veloce Club Borgo, qui accanto a me Ugo Segnana, diciamo dal punto di vista organizzativo della Coppa d'Oro sei il presidente, no? Sì, no, diciamo che faccio il regista, perché mi preferisco questo, nel senso che il presidente abbiamo unito, una volta c'erano due società che organizzavano, c'era l'associazione Coppa d'Oro, in cui era il presidente, e c'era il Veloce Club Borgo, il presidente della Stefano. Poi negli ultimi 7-8 anni abbiamo deciso di unificare una sola associazione, proprio perché gli adempimenti sia fiscali, burocratici, eccetera, diventavano praticamente doppi per mantenere in piedi lo stesso sistema, quindi abbiamo deciso di unire le due associazioni e tenere ovviamente il Veloce Club Borgo che fa l'attività agonistica e chiudere l'associazione Coppa d'Oro che è confluita completamente nel Veloce Club Borgo. Diciamo che io anche ero comunque già nel Veloce Club Borgo come direttore sportivo, eccetera, e poi sono passato un po' a fare il regista, diciamo, dell'organizzazione, nel senso che mi occupo di tutto quello che riguarda dalle iscrizioni alle domande per le chiusure delle strade, i fornitori, a mettere in campo tutto quello che c'è per mandare avanti questo bellissimo spettacolo, perché alla fine diventa veramente, secondo me, uno show stupendo anche da seguire, anche attraverso i mezzi di comunicazione, o venire qui dal vivo a vedere. Però visto dal vivo è un'altra cosa. Beh, visto dal vivo c'è l'ambiente, c'è proprio il sentire il ciclismo giovanile, come ti dà carica e gioia. Ma anche perché siamo, diciamo, in molti casi, dalla prossima settimana iniziano le scuole. Quindi è un po' la festa di fine anno. Secondo me sì, è proprio il periodo giusto. E fare una festa di fine anno per poi dire, beh, adesso sono tornati tutti a scuola. Sì, perché tra po' milioni questi ragazzi, l'ultimo giorno di vacanza, si fa a Borgo, ma si calza. Esatto. No, il periodo è stato indovinato e pensa che è nato quasi per caso dall'inizio, perché era una delle care che si inseriva nuove, parliamo del 65, e da lì è stato scelto sempre quasi la fine stagione. Ma è proprio la logica stessa della manifestazione. Il coro è il proprio direttore sportivo alla fine della stagione. Alla fine della stagione. Gare esordienti di primo anno, che ora appena torneranno le immagini stiamo seguendo, gruppo compatto. Tra l'altro, dobbiamo dire, campione italiano al via, ma ci sono anche corridori che durante la stagione hanno ottenuto tantissime vittorie, a partite da Cesare Castellani, Cicli Fiorin, 17 vittorie, Edoardo Fiorini, 14 vittorie, per seguire con Nicolò Scamperle, 11 vittorie, 10, Brian Palace, e quindi corridori che in questa stagione hanno vinto, in qualche caso, anche una gara ogni due, e qualcuno ogni gara ogni tre. Quindi veramente oggi sono messi tutti a confronto, direi anche forse più dei campionati italiani, perché in quel caso lì c'era la selezione regionale, quindi alcuni corridori che andavano forte, magari non avevano la possibilità, non hanno avuto la possibilità di essere presenti per una scelta dei tecnici regionali, in questo caso, diciamo, ci sono, no? Sì, noi ci rivolgiamo alle squadre, quindi i club, quindi portano chi ritengono opportuno. C'è un limite di partecipazione a quattro atleti, al massimo quattro atleti per anno, e quindi anche lì all'interno delle squadre alcuni devono fare ovviamente delle selezioni per fare un po' quelli che ritengono più adatti al percorso e alla corsa. Quindi anche la qualità dei corridori, devo dire che è veramente elevata, no? Si punta anche sulla qualità, oltretutto. Sì, però noi puntavamo e puntiamo comunque a una maggior partecipazione possibile. È la stessa logica della Coppa d'Oro, noi vorremmo che fosse veramente la corsa di direttori sportivi, dove i direttori sportivi portano i loro corridori a fare una corsa che è particolare, che è unica, eccetera, e che la possono gustare il più possibile, il maggior numero di squadre possibile. Anche per la Coppa di Sera per noi sarebbe questo l'obiettivo, però ovviamente i limiti ci sono e la regola è questa e quindi ci adattiamo. Malincuore dobbiamo lasciare a casa qualcuno. Intanto vedete sul rettilineo di arrivo i corridori che vedete sono gli esordienti del secondo anno che prenderanno il via alle ore 16, quindi sono già in fase di preparazione perché alle ore 17 perché alle 16 partono delle esordienti donne. Le donne esordienti secondo anno. Quindi questi ragazzi che prenderanno il via in un caso tra 40 minuti, nel caso tra un'ora e 40, sono già qui in zona, si stanno preparando. Intanto vediamo se ritorneranno le immagini, siamo un po' in attesa del segnale e i ragazzi adesso credo siano vicini all'entrata a Borgo perché vedendo i tempi nel secondo giro, certo. Vedremo anche con l'immagine fissa quella che sarà la situazione, le ultime segnalazioni ci davano ancora gruppo compatto, quindi ancora tutto insieme. Per manifestazioni del genere, accennavamo prima, anche le amministrazioni sono fondamentali. Sì, certo. Ovviamente la vicinanza del Comune di Borgo e delle amministrazioni confinanti con la nostra realtà è fondamentale perché ci permette di allestire tutto, di riuscire ad avere il supporto necessario per portare avanti la manifestazione e gli eventi collaterali che fanno da riempimento, ma che sono tradizionali, tipo i fuochi d'artificio e le altre manifestazioni che vengono svolte. Sì, è terminato il secondo giro. Sì, siamo sul tratto in pavè del centro di Borgova e Sugana e dopo ogni curva infatti si vede c'è il rilancio numero 12. Vediamo Giovanni Pazin del San Drigo Bike che allunga un corridore plurivittorioso in stagione, tra l'altro se non vado errato anche campione Veneto. Giovanni Pazin con il numero che quest'anno vanta nove vittorie all'attivo. Allora si muovono anche quelli che hanno, che vanno forte. Sì, Pazin e si vede ha fatto una bella azione. Ha fatto una bella azione, sì. Adesso vediamo se qualcuno dietro si muove. Anche perché mi è sembrato che dietro non fosse un gruppo ma fosse un posto allungato. Sembra che stia aspettando un po' magari se si aggancia qualcuno per portare via un gruppetto. Manca ancora parecchio. Mancano ancora due giri praticamente. Vediamo che stanno uscendo altri atleti. Sì, cerca collaborazione si vede. sta aspettando, vede se qualcuno collabora per portare via la fuga. Giovanni Pazin è anche piuttosto veloce quindi è uno che se arrivasse in volata potrebbe dire la sua. quindi vediamo se è accordato un compagno di fuga. Ora vediamo se è possibile capire di chi sta. Sì, vedo che si danno i cambi regolari stanno portando via altri tre corridori altri tre atleti si stanno avvicinando. Il gruppo sembra un pelettino più indietro. se collaborano magari l'azione può anche essere rafforzata. Comunque fa male questa azione anche al gruppo. Fa male perché ha allungato tantissimo la corsa in questa fase. Ecco il numero 12. è Pazin e il numero faccio fatica a vedere non riusciamo a vedere bene c'è un po' di luce del sole sono tre ragazzi comunque adesso vediamo se proseguono l'azione mi sembra che siano piuttosto decisi comunque davanti vediamo la moto li sta seguendo cerchiamo di capire di chi si tratta ripeto uno è sicuramente Pazin della San Drigo Bike sono Bustia, Samuele guarda 133 il 12 Pazin Giovanni e il 96 Fiorini e Doardo allora ascolta sono tre grandi corridori Bustia è un atleta piemontese che ha vinto parecchie corse e va molto forte Fiorini è il corridore che ha 14 vittorie all'attivo praticamente è il secondo nella classifica di rendimento quindi sicuramente sono un piemontese un veneto e un marchigiano i tre corridori quindi si sono mossi favoriti si sono mossi favoriti adesso vediamo se riescono a tenere ritmo però se vanno già e hanno già diverse vittorie vuol dire che di sicuro dietro devono sforzarsi il doppio per prenderli adesso secondo Edoardo Fiorini 14 vittorie all'attivo del pedale chiaravallese se non erro ha vinto anche domenica comunque con 14 vittorie ha vinto spesso Vabbè ha vinto spesso Sicuramente è capito e Brustia o Brustia non lo so come si pronuncia l'atleta piemontese è un ragazzo che ripeto ha avuto una grande continuità di rendimento era uno dei corridori che al campionato italiano si è mosso prestissimo e probabilmente nella voglia di muoversi l'ha pagato poi quando la corsa si è decisa però sono tre ragazzi che sicuramente non sono una sorpresa sono corridori che hanno vittorie alle spalle quindi hanno sicuramente le doti e le capacità di portare avanti la fuga ora vedremo tanto vediamo la nostra moto che li sta seguendo quindi ci sembra in questo momento che il ritmo sia un pochino diminuito adesso siamo nella zona in cui stacca il segnale ripeto Edoardo Fiorini del pedale chiaravallese quindi un atleta marchigiano 14 vittorie all'attivo per lui poi il Fasin 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 se non mi sbaglio è campione guarda verifico dovrebbe essere anche campione veneto se ricordo bene a memoria Sì è campione regionale è campione regionale Veneto Fasin Giovanni quindi e Brustia è campione regionale piemontese quindi ci sono mossi quelli che vanno forte perlomeno alcuni di quelli che vanno forte adesso vediamo se riusciranno a mantenere il vantaggio anche nel tratto di ritorno che è più scorrevole lì bisogna fare velocità e pedalare di comune in accordo tirare ognuno la propria parte per mantenere il vantaggio eccoli qua sul tratto in leggera discesa sono sempre loro tre adesso vediamo se dietro rientrano oppure se riusciranno a mantenere un po' un po' di vantaggio prima dell'ultimo giro non davano l'impressione di dar tutto no ora non so se era solo un attimo se era una fase di gara però vediamo appena torneremo con le immagini sulla testa della corsa vedremo quella che è la situazione e poi sarà l'ultimo giro comunque il passaggio quindi campana e l'ultimo radiocorsa dice che si è compattato il gruppo quindi tentativo rientrato tentativo rientrato intanto li vediamo ancora in tre però non sembrano conviti si sono fermati un peccato perché tre corridori così potevano avere l'ambizione e la possibilità non tirano rientreranno sicuramente da dietro eccole qua si si sono fermati ha fatto un'azione bella azione però non hanno dato continuità probabilmente non si trovavano d'accordo tra di loro o qualcuno è troppo veloce oppure non si fidavano adesso un altro scatto un allungo in testa Polo è il numero 33 dovrebbe essere Gian Maria Chinello della Padovani Padovani sono in due con il numero 72 con lui c'è Lorenzo Tocchette della San Fiorese sono lì però diciamo l'azione di prima era diversa qui poi tratto il rettilineo difficile andare via o perlomeno se qualcuno va via probabilmente prima è stata un'azione quasi di forza ecco l'atleti del team Coratti guarda se non mi sbaglio sono l'atleti del team Coratti perlomeno era un atleta al secondo ora questo qui ha allungato sembra l'atleta della Via Nova l'atleta toscano però non riusciamo a vedere il numero potrebbe essere Tarabori non riesco a vedere il numero del corridore c'è un po' il sole che se lo impalla comunque se non riconosci tu le maglie toscane mi sembra come se l'atleta del Via Nova ma hai capito è 141 sì Tarabori Emanuele Emanuele Tarabori davvero è l'atleta del Via Nova però sai diciamo che un po' la luce un po' tutto inganna un buon atleta questo ragazzo soprattutto uno che ci prova capito uno che ci prova che non non corre sulle ruote insomma quindi avevo visto è rientrato qualcun altro magari il gruppo stesso 188 è rientrato ancora Gabriele Pierazzuoli due toscane all'attacco uno del Monte Carlo Gabriele Pierazzuoli del Monte Carlo e Tarabori del Via Nova quindi due atleti toscane all'attacco quando sta per iniziare l'ultimo giro l'ultimo giro quindi due atleti toscane all'attacco Tarabori e Pierazzuoli si sono fatti vedere tanto entrano entrano in paese si sono fatti vedere già portate anche questo no? eh sì è una gara come la Coppa di Sera vediamo ora il gruppo il gruppo a 50 metri sì 70 metri probabilmente gli serve per attraversare qui perché il gruppo di Errora si è molto allungato anche perché affronta è una rotatoria e qui ci sono una serie di curve contro curve poi la curva al passaggio e qua inizia l'ultimo giro eccoci ultimo giro ultimo giro quindi suona della campana ultimo giro con una coppia toscana e il comando e hanno comunque 100 metri di vantaggio almeno forse anche qualcosa anche qualcosa di più sono due ragazzini che hanno già vinto se non mi sbaglio Pierazzuoli 5 vittorie quindi sono due ragazzi che ripeto io credo che sia importante anche farsi vedere certo ma è una nazione comunque che ha adesso sembra andarsene Tarabori fa un po' di fatica Pierazzuoli su questo strappo fa un po' di fatica sembra che Tarabori vada un po' di più sì Tarabori sembra avere un passo diverso peccato Pierazzuoli si rialza sì non ce la fa Pierazzuoli si rialza e Tarabori resta da solo eh sì no non ce la fa Tarabori continua invece peccato perché in due avevano qualche speranza in più insomma eh però se uno non ha la ricambe non li va dietro sì ora anche lui mi sembra che abbia un po' rallentato si stia voltando 10 secondi di vantaggio comunque per Tarabori dice Radio Corsa è stato lui l'iniziatore poi Pierazzuoli l'ha ripreso forse per riprenderlo ha speso qualche cosa di più eh sì per Tarabori quattro vittorie all'attivo in questa stagione ma anche vari piazzamenti ripeto è un ragazzo piuttosto diciamo sviluppato un ragazzo che ha fatto benino sempre sin dalle prime gare della stagione comunque ha avuto un bel coraggio perché comunque è partito dalla testa del gruppo sul tratto pianeggiante e poi sta tenendo al momento Radio Corsa conferma ancora 20 secondi eh però 20 secondi non sono pochissimi potrebbero anche vediamo ora si sta voltando non deve voltarsi forse forse deve giocarsi questa è la sua chance probabilmente ormai ormai è fuori se lo riprendono sulla salita dopo poi però potrebbe essere l'occasione se riesce riuscisse a iniziare la salita con 20 secondi eh questa è la sua occasione per poter star davanti raccontavamo prima l'esperienza di Viscini potrebbe fare qualcosa di sicuro ah se dietro si guardano anche Viscini fece qualcosa di sicuro 20 secondi conferma ancora la radiocorsa 20 secondi per Tarabori dietro sembra da quanto dice la radiocorsa che il gruppo si è bloccato quindi non non esce nessuno al momento vediamo come va perché comunque ho avuto un bel coraggio ho avuto un tempismo giusto ha fatto una bella azione difende i colori del Via Nova squadra visto Iese sta facendo veramente adesso c'ha il piccolo tratto qui in salita una bella azione forse dietro qualcuno si muove su questo strappetto vediamo si continua a girare però non è non è convintissimo non è convintissimo di quello che sta facendo probabilmente a questo punto dovrebbe andare fino che va è l'occasione l'energia è la spesa non è che può pensare può di risparmiarsi per la salita ormai forse non se ne aspettava neanche lui forse non se ne aspettava neanche lui si non è molto distante dall'imbocco della salita peccato peccato per Pierazzuoli perché se rimanevano in due dandoci qualche cambio in più poteva essere l'occasione giusta poteva essere l'occasione in due diciamo di andare ancora più avanti di andare ancora più avanti certo comunque deve provare a tenere fino alla salita e ormai 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 deve dare tutto sullo strappo non manca molto all'imbocco dello strappo adesso c'è questo piccolo tratto in discesa pianura e poi c'è subito la salita quindi siamo poco poco a distanza il fatto che si volti spesso non è convinto neanche lui di riuscire ad andare a fondo sta facendo un'azione molto bella si preoccupa controlla dietro se arriva chiaramente sente poi il fiato sul collo adesso vediamo se si muove qualcuno diciamo poi è un'emozione essere solo in una corsa come questa credo che sia veramente sia veramente una una bella radiocorsa da ancora per Assuoli in seconda posizione quindi ha avuto una defaianza e poi si è ripreso ecco c'è l'imbocco della salita qui inizia la salita vediamo come la fronterà se riusciamo ad andare regolare mantenendo qualcosa di vantaggio intanto al momento è sempre da solo quindi inizia qui la salita vediamo dietro se il gruppo intanto Tarabori va su regolare forse un po' duretto ma prova a tenere un'andatura alta anche spesso anche spesso certamente 37 secondi addirittura 37 secondi a questo punto sta facendo una grandissima azione aumentano decisamente le possibilità di successo a questo punto per Tarabori veramente aumentano notevolmente le possibilità di successo per Emanuele Tarabori dietro allora sono bloccati si guardano probabilmente sono controllati dopo l'azione che abbiamo visto prima di di Fiorini Brustia e Fiorini qui è il tratto più impegnativo fa fatica ora però a questo punto deve dare tutto si rialza nuovamente sui pedali dovrebbe guardare avanti forse dovrebbe guardare avanti più che dietro ormai non manca moltissimo non manca non manca molto ora il gruppo è in difficoltà adesso fa fatica fa molta fatica a scollinare fa molta fatica Tarabori fa molta fatica a scollinare fa molta fatica ondeggia un po' però non manca molto saranno 100 metri sono i più duri i più duri di tutti adesso adesso si è quasi è proprio in difficoltà si sta giocando la coppa di sera in questo momento si sta giocando la coppa di sera in questo momento adesso ha ripreso qualcosa deve dare tutto deve dare tutto lo stanno incoraggiando lo stanno incoraggiando deve dare tutto ma mi sembra che dietro stanno arrivando è troppo piantato è da solo sta venendo su molto molto forte sembra il nostro del bordo ah Fiorini Chiara Vallese vediamo si Chiara Vallese Fiorini da solo Fiorini 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 96 il finale Chiara Vallese Edoardo Fiorini che era già in fuga al giro precedente ha scollinato con qualcosa di vantaggio si e ora sta provando Edoardo Fiorini ripeto era già presente nell'azione precedente poi non c'è stato accordo ora è solo molto bella l'azione di Edoardo Fiorini peccato veramente per Tarabori si è proprio piantato sulla parte finale della salita forse non era più convinto neanche lui aveva speso ma forse le energie non dico che gli mancassero però non era non era più convinto di quello che faceva anche quello ha inciso è lì però anche le gambe mi sa che è andata però merito per una grande azione che ha cambiato la corsa è stata importantissima se ci dovesse essere un premio della combattività andrebbe lui sicuramente perché ha fatto un'azione veramente importante l'atleta del pedale Chiara Vallese ricordo che era presente anche alla fuga al giro precedente e ora è scattato nella parte finale di salita solo al comando tra poco sta terminando la discesa siamo quasi a fine discesa ecco siamo quasi siamo a fine discesa sempre da solo ora vedremo vediamo Edoardo Fiorini sta pedalando con grande determinazione 12 secondi possono anche essere sufficienti possono anche anche perché dietro se qualcuno si sacrifica e si muove poi lo fa probabilmente a favore di qualcuno di altri quindi bella l'azione di Edoardo Fiorini dobbiamo dire il gruppo è in fondo c'è un bel vantaggio dovrebbe e dico dovrebbe essere riuscito nell'intento ora vedremo tra poco dovremmo essere vicini all'ultimo chilometro manca meno di due chilometri all'inseguimento segnala Radio Corsa quindi campione italiano e rappresentante il veloce Creborg sono usciti dal gruppo CER con un'azione per cercare di raggiungere Fiorini e poi altri altri atleti stanno rientrando certo comunque sembra che l'azione di Fiorini sia difficilmente recuperabile guarda siamo ormai a un chilometro e mezzo dalla conclusione ora sentiremo nuovamente il vantaggio però veramente una bellissima azione la sua bella azione nella parte della salita sicuramente ha mangiato il vantaggio poi ha guadagnato rispetto agli altri ha scolinato con 4-5 secondi poi diventato vediamo all'entrata al paese quanto avrà per il momento è sempre solo e poi sembra anche che abbia un bel ritmo si si è un bel ritmo comunque dobbiamo dire che è stato primo attore al giro precedente era nel terzetto in fuga poi se ne è andato da solo credo che dopo queste due azioni e sulla salita meriterebbe la vittoria sulla salita ha fatto la differenza adesso siamo all'ultimo chilometro passato l'ultimo chilometro pochi metri Fiorini è ancora in vantaggio dietro sembra un'azione di Zanei del veloce Creburgo per cercare di rientrare come riferito da Radio Corsa ormai in rotatoria manca poco dobbiamo dire che grande finale siamo a 500 metri dall'arrivo ormai quindi dovrebbe essere sua la 15esima edizione della Coppa di Serie esordienti primo anno veramente una bella azione quella di Edoardo Fiorini l'atleta marchigiano veramente credo che ha diventato essere più forte esattamente ecco le ultime curve l'ultima curva destra e il rettilineo finale per lui eccolo vediamo ha mantenuto anche un bel vantaggio nei confronti degli altri quindi Edoardo Fiorini Edoardo Fiorini vince la 15esima Coppa di Sera esordienti primo anno poi sprint per il secondo posto vediamo abbiamo visto il campione italiano terzo Pasin secondo terzo campione italiano quindi secondo posto per Pasin e terzo il campione italiano è un bel podio un bel ordine d'arrivo bell'ordine d'arrivo ora si susseguono gli arrivi ripeto bellissima l'azione prima di Emanuele Tarabori a cui è mancato qualcosa sulla salita finale veramente poche decine di metri però l'uscita di Edoardo Fiorini ha fatto sì che il corridore marchigiano abbia veramente meritato di entrare nell'albo d'oro della Coppa di Sera esordienti primo anno molto bella la sua vittoria secondo posto per Giovanni Pasin terzo Andrea Indrizzi ora aspettiamo la conferma dell'ordine d'arrivo vediamo il vincitore si sta portando al controllo rapporti quindicesima vittoria stagionale per lui l'asletta del pedale chiaravallese l'azione che ha fatto in salita veramente ha fatto la differenza ed è stato grazie a questa azione che è riuscita a presentarci solo sul rettilineo di arrivo abbiamo festeggiato dai compagni di squadra e dagli avversari per questa bellissima vittoria controllo rapporti vedete si sta recando ora il controllo rapporti il vincitore Edoardo Fiorini è il primo ad arrivare al controllo rapporti ora aspettiamo l'arrivo della giuria per la verifica vediamo i corridori che si stanno portando al controllo rapporti il primo è proprio il vincitore Edoardo Fiorini pedale chiaravallese gara bella e combattuta per merito anche dei due atleti toscani Tarabori e Pierazzuoli peccato che Pierazzuoli a un certo punto abbia mollato Tarabori perché in due potevano probabilmente avere un esito diverso in questa quindicesima coppa di sera vediamo intanto il vincitore che ci sta raggiungendo Edoardo Fiorini ci ha raggiunto Edoardo Fiorini quindicesima vittoria stagionale dobbiamo dire che nel finale hai fatto veramente la differenza sul tratto in salita Sì alla fine ho dato tutto sono arrivato su in cima che ero veramente a tutta però ho visto che dietro c'era un buco e ho continuato fino all'arrivo Senti hai avuto paura di non riprendere Tarabori il corridore che era al comando? Sì dopo ho fatto una grande azione però fortunatamente alla fine sullo strappo si è un po' piantato e sono riuscito a riprenderlo Al giro precedente eravate usciti in te tre te Pasin e Brustia cos'è successo? A un certo punto avevate un buon margine non c'era più l'accordo Alla fine no abbiamo provato fino alla fine però il gruppo ci è rimasto sempre lì abbiamo deciso di mollare alla fine Allora ho detto quindicesima vittoria stagionale però questa sicuramente è la più bella della stagione Sì sicuramente è stata la gara più bella della stagione e quella in cui dopo l'italiano puntavo di più Allora a chi la dedichi? La dedico al mio allenatore Roberto Pesaresi alla mia famiglia a mio nonno e alla mia squadra Complimenti di nuovo veramente una bellissima azione complimenti Grazie Quindi vincitore Edoardo Fiorini abbiamo visto veramente una grande azione la sua nel finale ora vedremo se ci raggiungeranno dovrebbe essere Pasin secondo posto per Giovanni Pasin quando siete andati via in tre al giro precedente mi ha detto prima Fiorini che non è che non andavate d'accordo ma il gruppo era troppo vicino è così o l'impressione dalle immagini è che a un certo punto non ci fosse più una grande convinzione di andare avanti Beh innanzitutto la collaborazione c'era però c'era finché abbiamo scollinato alla fine del sali e scendi poi non c'era più e quindi me ne sono stato dietro visto che avevo notato che il gruppo era vicino me ne sono stato dietro e ci siamo fatti riassorbire Senti quando Fiorini ha allungato l'ultimo giro non c'era possibilità di stare dietro Ma più che altro penso abbia scattato nella salita però io non ho visto perché ero più indietro perché sapevo che dovevo farla con il mio ritmo perché non essendo fortissimo se no non riuscivo neanche a vincere la volata del gruppo e sì secondo me gli altri del gruppo non gli sono subito saltati saltati dentro però non posso dire niente dato che non l'ho visto Senti una buona stagione la tua dicevo prima nove vittorie all'attivo sei campione veneto quindi c'è una stagione molto positiva sì sì e c'è qualche rammarico sia per qui la Coppa di Sera quest'oggi che anche per il campionato italiano che però essendo in rizzi anche lui del Veneto non siamo potuti rientrarli e quindi è andata bene così poi Cingolani all'ultima salita è scattato aveva un passo veramente incredibile e non sono riuscito a stare dietro quindi va benissimo così va bene complimenti e diciamo grande stagione anche aspettiamo un bel 2023 va bene? sì sì grazie a te terzo posto completa il podio il campione italiano Andrea Indrizzi città di Marostica una bella prestazione ma per la vittoria con Fiorini oggi non c'è stato niente da fare no e non avevo più perché sono andato a prendere la fuga circa metà gara e va bene così io stesso ecco quando erano in tre davanti stavo te a chiudere sì quindi dopo hai pagato un po' e senti quando è andato via Taraboni il corridore toscano che avete ripreso in cima alla salita hai avuto l'impressione che potesse andare all'arrivo? ero così stanco dalla salita fatta che non mi sono neanche reso conto che che era davanti quindi diciamo che il terzo posto si soddisfa visto come sono andate le cose va bene grazie quindi abbiamo visto abbiamo sentito i protagonisti i primi tre arrivati ricordiamo quarto posto per Alberto Donà quinto posto per Emanuele Tarabori questi primi cinque arrivati quindi Edoardo Fiorini secondo Giovanni Pasin terzo Andrea Andrizi quarto Alberto Donà quinto Emanuele Tarabori ricordiamo il corridore che era in fuga solitare è stato raggiunto proprio in cima alla salita però è riuscito lo stesso a ritagliarsi il suo spazio e ha ottenuto un ottimo quinto posto a questo punto chiudiamo con la gara esordienti primo anno ora vedrete le immagini della premiazione e tra pochi minuti inizierà la gara riservata alle donne esordienti del secondo anno il secondo anno intanto vediamo le immagini della premiazione stiamo aspettando ora ricordo che quasi in contemporanea partirà la gara riservata alle donne esordienti secondo anno grazie intanto vedete inquadrato il palco di Borgo Val Sugana dove tra poco inizierà la premiazione per la categoria esordienti primo anno fermati però Giova 2 minuti da una partenza allora la chiama lasciamo la linea la zona di partenza la prima notte abbiamo già Grazie. 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 Allora, aspetta, aspetta, se mi dimentichiamo di una persona, non è contenta di lui, io quasi quasi, però, guarda, ti tirerei gli orecchi e non ti salvo il cuore, l'ultima, devi dire che mi chiede, le mani, bravo. Ma, insomma, oggi si è prigica, è l'unico che ci vuole, vuoi dire che una cosa, l'hai la facoltà che ti prende con voi o più che ci salva? Troppo forte, però un applauso a questi forami, non le dice ragazzi. Bene, grazie, io lascio dalla linea la piscina che è possibile, il tuo metodo è il tuo domenico, noi ci vedremo dopo per l'ultima, la piscina della piscina. Ora guarda, direi cosa stai? perché è una strada di oggi, una bella giustina che prega, ma si è fatto un torno di 6-24 a generale, di 30-30, cioè ti diverti anche tu di questo pazzo mondo del ciclo, ma tu pedaglia, è un gesto. Sì, pedaglia, anche ma non come loro. Comunque io mi ringrazio sempre, io a loro potrebbero tagliare, io mi ringrazio, mi riempiono di positività e di speranza che lo faccio. Ti parla. Continuo anche tutti così. Ma mi fai una assaglia, mi riempiono di positività, veramente. Grazie, Giacalina. Sì, sì, quindi non è proprio. Ah, hai profondamente ragione. Grazie, Giacalina, a terra. Sto bene, sono qui a Borgo Varzucana, commentavo le forze. Questa, questo, quello lì, e questo insieme. E noi insieme? No, sì, sì, sì. Intanto c'era una fuga, c'era Brustia prima, il ragazzo vostro esordiente. Grazie. 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 quindi le atlete stanno per terminare il secondo giro ora sono segnalate all'ultimo chilometro quindi tra poco secondo passaggio in zona contagiri quindi le atlete hanno percorso al momento quando passeranno avranno percorso 13 chilometri di gara ed ecco infatti con le nostre immagini seguiamo il gruppo, gruppo compatto che sta entrando dentro Borgo Valzugana siamo alle spalle del gruppo, ripeto, gruppo compatto in questo secondo giro per ora non ci sono state fasi particolari di gara le atlete sono ancora tutte assieme ed ecco vedete ora il passaggio in zona contagiri sono già transitate in zona contagiri ora affrontano un breve tratto in salita quello piuttosto ondulato della prima parte di circuito che abbiamo già seguito per la gara delle donne esordienti primo anno sono degli esordienti maschi primo anno vediamo solo alcuni atleti in leggera difficoltà dobbiamo dire che il percorso non è dei più semplici anche se non è durissimo però ripeto sono molti saliscendi che le atleti devono affrontare soprattutto nella prima parte del circuito e vedete ora il gruppo veramente molto molto allungato in questa fase con alcune atlete in difficoltà fanno fatica a tenere il ritmo del gruppo e vediamo che in questa fase è molto elevato la gara si svolge sulla distanza di 33 km e 900 metri quindi al momento praticamente superata da poco un terzo di gara vediamo ora alcuni atleti che stanno perdendo terreno vedremo se il gruppo rallenterà e permetterà loro di rientrare ma soprattutto in questa parte di circuito con strade abbastanza strette il gruppo procede spessissimo molto molto allungato intanto vediamo alcuni atleti proprio in difficoltà in questa fase la nostra moto le sta superando si sta riportando sulla coda del gruppo che in questo momento però rallenta e permette anche a questi atleti di riportarci sotto quindi anche questi atleti rientrano sul gruppo che è compatto come avete visto la prima parte del circuito è particolarmente ondulata e tortuosa come ci diceva prima anche l'organizzatore Uo Segnana mentre nella seconda ha ampi rettilinei dove anche gli inseguitori riescono a vedere corridori all'attacco così come nella gara degli esordienti del primo anno abbiamo visto che l'attacco di Fiorini, Brustia e Pasin non ha avuto esito anche per l'inseguimento del campione italiano Endrizzi che come ci ha detto ha dovuto spendere molte energie per riportarsi sotto energie che poi gli sono forse mancate un po' in occasione dell'ultimo giro intanto vediamo gruppo compatto ora l'andatura è piuttosto tranquilla e anche quest'atleta che aveva perso leggermente contatto si è riportata sotto quindi gruppo compatto gara donne esordienti secondo anno vediamo ora il gruppo questo tratto in discesa si è molto allungato e le atlete che sono un po' più in difficoltà come in questo caso l'atleta che vedete in ultima posizione hanno perso leggermente terreno niente di particolare naturalmente da segnalare in questa fase di gara con il gruppo sempre compatto infatti anche l'atleta che aveva perso terreno rientra ma va con un rapporto lunghissimo quindi quando il gruppo poi allunga fa fatica a tenere il ritmo infatti vedete si alza sui pedali decisamente un rapporto troppo lungo il suo che nei tratti in salita soprattutto se è affrontato in mezzo al gruppo la penalizza particolarmente gli fa fare molta fatica a mantenere il ritmo delle avversarie terminato il secondo giro gli atleti stanno affrontando il terzo giro sono tutte assieme per ora dobbiamo dire che non è successo assolutamente niente quindi gruppo compatto solo alcuni atleti hanno perso leggermente terreno ma sono quelle meno preparate e quelle che come sempre nelle fasi iniziali di gara sono quelle che pagano di più le difficoltà del percorso ci ha raggiunto nuovamente Ugo Segnana allora terminata la premiazione terminata la premiazione vengo di nuovo a farti compagnia a fare compagnia ai nostri spettatori gara esordienti donne secondo anno fanno un giro in più delle categorie precedenti e sempre una volta comunque la salita la salita finale anche qua mi pare di capire che l'andamento sarà simile un po' alla gara esordienti primo anno con la salita che farà da la spartiacque diciamo della della corsa per ora c'è stato molto controllo dobbiamo dire non è successo praticamente niente noi con la nostra telecamera abbiamo seguito ora siamo sulla parte più più ampia del circuito vediamo la telecamera sta rimontando gruppo molto allungato però diciamo anche le atlete che occupano le prime posizioni hanno rallentato si adesso c'è un rallentamento c'è un rallentamento vediamo il gruppo è tutto compatto stanno tenendo le posizioni vedremo se la la telecamera ce la farà a superarle in questa fase si ritrova chiusa quindi speriamo che riesca probabilmente la rettina è più grande quindi probabilmente riuscirà a superare infatti supera il gruppo gruppo che procede compatto vediamo andatura neanche troppo sostenuta quindi vanno abbastanza tranquille a vedere non rilanciano dopo le cose quindi la velocità rimane costante per ora di tutte le gare che abbiamo seguito forse anche più di quella delle donne allieve quella dove l'andatura è stata più tranquilla probabilmente perché hanno un giro in più anche da percorrere quindi sanno che ci sono più chilometri e affrontano con più tranquillità questa prima fase di gara per ora niente di particolare da segnalare per quello che riguarda questa gara riservata alle donne esordienti del secondo anno intanto ricordo a tutti questa sera lo spettacolo non finisce con le gare ma prosegue sia qui allo stand gastronomico che invito tutti a fermarsi per assaggiare i prodotti locali e poi questa sera alle ore 22 con il tradizionale spettacolo pirotecnico da Castel Telvana che attira sempre numerosi spettatori tra l'altro dobbiamo fare complimenti alla cuscina perché nell'intervallo tra la gara delle donne allieve e quella delle donne esordienti ho approfittato della cucina e devo dire che sono stato veramente bene bene devo fare complimenti ai cuochi sono contento per l'ottimo servizio intanto vediamo al comando con il numero 33 Ilaria Fortuna l'atleta della preganza Millennium ha allungato cerca di muovere le acque è il primo scatto di giornata questo è il primo scatto di giornata quella dell'atleta della preganza Millennium che possiamo seguire con le nostre immagini ma il gruppo vedo si è accodato si è accodato velocemente non si dà grande spazio anche perché come mi hai suggerito te questa qui è la parte più ampia del circuito sono lunghi rettilinei l'atlete si vedono quindi è anche più difficile riuscire a essere primattori è molto più difficile fare la differenza non ci sono spazi particolari certo però nella gara precedente Tiraboni è andato proprio via in questo punto dobbiamo divertire che nella gara precedente ci siamo divertiti abbiamo visto una gara esordiente primo anno veramente combattuta non solo nelle fasi finali ma anche precedentemente con vari tentativi quindi complimenti ai ragazzi perché veramente ci hanno chi ha seguito la gara dell'esordiente primo anno per quello che riguarda questo tipo di categorie si è divertito perché non è facile vedere qualcuno che attacca da lontano come hanno fatto il terzetto che poi è stato raggiunto e anche l'azione di Tarabori che veramente a un certo punto anche noi ci avevamo creduto sì guadagnando 37 secondi nel tratto finale praticamente sulla salita si pensava potesse tenere in verità purtroppo per lui si è proprio fermato in salita si è piantato si è piantato e quindi è proprio sono stati mangiati in pochi centinaia di metri tutto il vantaggio che aveva scollinando comunque col primo gruppo e arrivando comunque anche in classifica poi voglio dire non è che non aveva non ce la faceva più proprio in salita perché poi è rimasto col gruppo di testa è rimasto col gruppo di testa e per tenere un quinto posto dopo che le abbiamo visto ripreso anche probabilmente demoralizzato col fatto di essere stato raggiunto in cima alla salita arrivare quinto veramente credo che sia un ottimo risultato il suo un'ottima veramente una bella gara una bella gara la sua adesso qua siamo nell'attraversamento di Borgo Vecchio centro storico quindi abbiamo superato il terzo giro abbiamo superato il terzo giro e ci apprestiamo a incominciare il quarto giro e incominciato il quarto giro superata già abbondantemente metà gara adesso vediamo se si muovono un po' le acque in vista degli ultimi due giri proprio perché vediamo che un po' di movimento centesta al gruppo probabilmente si devono muovere come è successo per Tarabori quegli atleti che sanno che lo strappo finale può essere loro in difficoltà esattamente certo guadagnare terreno prima di affrontare lo strappo magari gli consentirà di scollinare con il gruppo di testa e poi giocarsi le carte all'arrivo finale potrebbe essere un'ottima lettura di corsa per chi non ha caratteristiche di scattista puro sulla salita ricordo che il successo per quello che riguarda le donne esordienti secondo anno l'anno scorso l'ottenne Linda Sanarini che abbiamo visto quest'anno fa parte della categoria allievi donne allievi l'abbiamo vista particolarmente delusa l'abbiamo sentita sicuramente vista anche la vittoria dell'anno scorso si aspettava di poter rendere ottenere un risultato migliore e certo poi le ragazze chi ha velleità punta il risultato massimo ovviamente quindi c'è ovviamente un po' di delusione non aver raggiunto quello che magari hai programmato per mesi di allenamento tanto gruppo ancora compatto nessuna fase particolare di gara l'andatura comunque sembra leggermente più vivace rispetto al giro precedente sembra più più intensa e sicuramente il prossimo giro e mezzo ormai sarà aumentare sicuramente anche perché adesso chi vuole anticipare deve provare a fare qualcosa e chi invece attende lo strappo poi darà tutto sull'ultima salita perché questa parte ondulata del circuito abbiamo visto che oltre a creare una selezione dal dietro dà anche la possibilità se qualcuno vuole a tentare delle sortite sì diciamo che una volta passato la campana comunque il punto di inizio del circuito sia nella parte di Borgo Vecchio sia nella parte poi di Campania si può provare qualcosa con le immagini di Pietro state seguendo la gara delle donne esordienti secondo anno quindicesima edizione della Coppa di Sera siamo a Borgo Val Sugano organizzazione del Veloce Club Borgo avete visto inquadrato Ugo Segnana che ci segue passo passo anche perché dobbiamo dire queste gare nella maggior parte dei casi salvo quello che è successo nella gara esordienti primo anno si risolvono nelle fasi finali quindi è una lunga attesa la stilettata finale eh sì d'altronde le ragazze si equivalgono alcune hanno oppure in alcuni casi c'è chi è molto più forte quindi tutti aspettano le mosse di chi è favorito e poi dipende anche i direttori sportivi cosa gli dicono perché molte volte eh gli dicono anche di aspettare di attendere l'ultimo giro e poi da lì iniziare le corse se visto quello che sta succedendo attualmente all'estero sembra che ai corridori italiani si dica sempre aspetta 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 anziché quello che succede in altri paesi dove si va decisamente allo sbaraglio molto prima sì poi le corse adesso anche a livello professionistico e anche direttantistico partono molto forte già dall'inizio c'è sempre movimento e anche i favoriti molte volte ormai ci hanno abituato rispetto al passato ad azioni da lontano con azioni spettacolari magari quando mancano 40-50 km dall'arrivo e credo che un po' dovrebbe passare anche nei ragazzi questa abitudine a provarci credo che sia una cosa importante per loro provarci sapendo di volerci provare quindi sapendo anche di poter saltare di poter essere staccati o di poter non finire la corsa ma però provarci vuol dire crescere probabilmente invece aspettare magari puoi fare anche il risultato puoi fare il piazzamento però poi non sai mai quali sono veramente i tuoi limiti e questo devo dire che per quello che riguarda i corridori italiani è quasi ormai una caratteristica diciamo in tutte le nostre corse sì poi io vedo anche nelle caratteristiche dei ragazzi se vediamo anche gli ultimi ragazzi passati professionisti sono molto numerosi i ragazzi che passano e hanno doti di scattista di velocista di semi velocista o velocista resistente che tiene anche su qualche strappo però per esempio ci manca quasi totalmente o in minima parte poi ne troviamo qualcuno che va forte sulle salite lo scalatore e magari manca il grosso velocista quello che ti domina la volata eccetera probabilmente è anche una fase di forse anche il nostro proprio selezione il reclutamento dei ragazzi che passa da queste logiche di avere chi resiste sullo strappo chi è anche un po' veloce quindi può vincere le corse invece che chi è più portato a fare salite lunghe che magari fa più fatica in queste categorie proprio e poi potrebbe magari invece farsi vedere nelle categorie quando si è più grandi da juniors in su o da dilettanti in su intanto con le atlete stiamo siamo nella seconda parte del del circuito quindi tra poco tra un pari chilometri no? dovremmo essere qui in zona siamo sulla parte finale della discesa da Roncegno e ci mettiamo sulla provincia verso Borgo Valsugana quindi sono circa due chilometri e mezzo dal passaggio al passaggio si suono della campana per l'ultimo giro con la salita di Ferdberg Ferdberg ormai sarà conosciuta da tutti ragazzi più che altro però ripeto domattina dobbiamo sapere i tempi domani dobbiamo prendere i tempi i tempi sentire i tempi di Strava no no ormai lo facciamo domani mattina con calma così lo diremo perché anche se questa salita non verrà fatta domani per la per la Coppa d'Oro ma non 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 faremo domani però oggi l'abbiamo fatta varie volte con con le con i corridori quindi la vedremo per quello che riguarda le caratteristiche degli esordienti sia a livello maschile che femminile tanto andatura decisamente molto aumentata in questo momento siamo sul tratto rettilineo che porta a Borgo Valsugana si cerca anche di cominciare a prendere posizioni per affrontare la parte più stretta del circuito davanti perché stiamo per iniziare l'ultimo giro quindi ultimo giro decisivo per per questa quindicesima Coppa di Sera e ancora una volta si diceva si parlava prima di risultati ma sono emerse indipendentemente dal vincitore anche nelle prime posizioni atlete che in alcuni casi non se ne aspettavano neanche loro di essere davanti e questo è sintomo anche che qui a Borgo Valsugana ci sono dei percorsi particolari che riescono a far emergere atleti che magari in altri percorsi più semplici non riescono a dimostrare il loro valore si non è piatta la corsa sicuramente e quindi può essere anche uno stimolo per queste ragazze far vedere che hanno doti magari in certe situazioni non possono dimostrare magari per il tipo di percorso che vanno ad affrontare molte volte fanno circuiti piatti circuiti pianeggianti invece magari vedere questo tipo di di risultato su un percorso così può dare stimolo a migliorarsi a cercare di fare il meglio possibile abbiamo visto uno scatto al comando di Emma Bonissi della ciclistica Ossanesga dobbiamo dire che queste ragazze lombarde abbiamo visto gareggiare varie volte con i maschi quindi hanno probabilmente anche un ritmo in alcuni casi un po' diverso rispetto alle sole gare femminili perché li abbiamo trovati ripeto in più occasioni in gare maschili comunque secondo me sarebbe interessante anche proporre formule diverse di di corsa anche a livello nazionale nostro sono convinto che poter mettere delle piccole non dico gare a tappe però delle giornate di gare ravvicinate per le varie categorie specie anche dai giovanili in su potrebbe stimolare i ragazzi a sviluppare doti diverse non solo la prova su strada questo si lega un po' a un progetto che potrebbe avere anche un interesse nazionale magari fare delle gare che hanno una cronometro il primo giorno una gara pianeggiante tipo una carmessa il secondo giorno e una gara in linea il terzo giorno legando poi a una presenza sul territorio che ha un po' di ritorno turistico per tre giorni magari non tutte le domeniche però una volta ogni una volta al mese una volta ogni 15 giorni per dare la possibilità anche ai ragazzi di misurarsi su tipologie e specialità diverse ma guarda per quello che riguarda la categoria allievi in Italia questo non esiste ma lo abbiamo visto quest'anno alcune società italiane sono andate all'estero e l'hanno trovata in un caso se non mi sbaglio in Slovenia nell'altro caso in Belgio sono andati e hanno gareggiato in tre giorni vediamo anche il fenomeno che sta succedendo all'estero della categoria Juniors tanto è iniziato l'ultimo giro deve essere l'ultimo giro il quarto passaggio sì deve essere l'ultimo giro c'è infatti un po' di movimento in testa al gruppo sono alcuni atleti che stanno allungando ora vedremo abbiamo un po' di sole lì traverso abbiamo un po' di devi girarlo dobbiamo girare un po' il monitor perché altrimenti vediamo un atleta che ha un leggero vantaggio infatti c'era un po' di movimento in testa però subito si è riassorbita l'azione e ancora il gruppo è compatto per affrontare la parte vallonata dell'ultimo giro prima di arrivare alla salita finale comunque è vero ci sono delle situazioni che secondo me dovrebbero essere valutate anche da noi forse anche questo tipo di situazioni fanno crescere all'estero i ragazzi con caratteristiche diverse o magari un po' più varie magari da noi si gareggia da un certo punto di vista ormai troppo nel senso che ogni settimana c'è una gara poi sono qualche occasione le feste infrasettimanali quindi si gareggia mentre all'estero magari si fanno diciamo ci sono degli intervalli di tempo gareggiano meno domeniche meno gare però concentrano in due tre gare a periodo e questa è una differenza che probabilmente e qui io credo che un po' tutti stiamo cercando di capire perché nascono all'estero certi fenomeni da noi no credo che credo che al momento nessuno di noi ha ancora capito o ha la pacchetta magica per capire dove sono gli errori però che indubbiamente all'estero si comporti in maniera diversa ormai è ovvio mentre noi stiamo seguendo sempre lo stesso iter noi facciamo le stesse cose per cambiare le cose bisogna ragionare in maniera diversa però stimoli che devono essere sostenuti perché altrimenti chi organizza non riesce a sopportare costi per tre giornate di gare dovrebbe esserci un progetto che consenta di fare questo ma a livello di macro regioni macro aree non puoi farlo tutte le domeniche ovviamente potresti farlo in periodi ben definiti e almeno per cominciare a vedere come potrebbe andare avanti magari mettendo insieme anche due organizzatori nella stessa regione chi si occupa del cronometro chi fa l'altra gara chi ne fa un'altra in modo da avere un risultato complessivo però buono anche perché se noi ci rifacciamo alle gare diciamo le piccole gare all'estero delle categorie junior di solito si svolgono in due tre giorni con una cronometro una semitappa una tappa un percorso impegnativo e magari da tre a quattro a quattro gare racchiuse in tre giorni e ormai quello è una caratteristica ma lo vediamo lo stesso le gare organizzate dall'UCI all'estero a cui partecipa anche la nazionale e a volte anche società italiane hanno quel tipo di caratteristica è una cosa che potremmo anche noi provare secondo me in Italia a introdurre certo ci vuole un progetto ci vuole un confronto nazionale da questo punto di vista intanto le ragazze sempre con gruppo compatto si stanno avvicinando all'ultima salita e ora l'andatura mi sembra molto veloce vediamo veramente gli atleti stanno andando molto forte vediamo anche il gruppo è molto allungato bisogna tenere le posizioni di testa per affrontare lo strappo di salita adesso è fondamentale mantenere la posizione infatti al finale la strada stretta ci passano due tre atleti affiancati non di più anche perché ho sentito le dichiarazioni che te non c'eri sia di Pasin che di Endrizzi che loro essendo in posizione un po' arretrata non si sono addirittura resi conto dello scatto di Fiorini e di quello che succedeva e quello è l'importanza di stare davanti e quindi diciamo hanno perso l'attimo buono nei loro casi nel caso di Pasin perché così aveva pensato di salvare la gamba per farla volata nel caso di Endrizzi ci ha detto che era lui che ha chiuso sul terzetto in fuga che abbiamo visto il giro precedente e quindi aveva speso un po' troppe energie però ecco questo dà l'idea di che cosa ne aspetta sullo strappo di salita finale quindi vedremo quella che sarà la situazione proprio qui nella nella parte finale adesso siamo all'imbocco della salita la vedi? sì 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 siamo all'imbocco della salita e incomincia più lieve poi impegnerà vedremo se qualcuna farà come come hanno fatto nelle due gare precedenti di tentare l'allungo intanto sono tutte sulla stessa linea per ora ma anche al giro precedente sono stati gli ultimi 50-100 metri che hanno 50 metri che hanno fatto 50 metri che hanno fatto la differenza delle donne esordienti primo anno è andata così l'approccio alla salita poi un po' per selezione proprio fisica di tenuta del ritmo si si allunga naturalmente e rimane chi ha più resistenza infatti c'è un allungo deciso e le ragazze si mettono subito in fila sono in tre che ci sono avvantaggiate sono in tre che hanno un leggero vantaggio non manca molto lo scollinamento anche qua sembra che siano in due quelle che si avvantaggiano un po' di più hanno qualche metro però un'altra atleta vediamo subito dietro sulla sinistra la campionessa italiana si Matilde Rossignoli e sulla destra non riusciamo a vedere adesso scollinano quindi hanno pochi metri di vantaggio vediamo se si riesce a capire qui è la svolta dopo la curva eccole sono due abbiamo visto eh però hanno preso quasi dieci secondi eh la Valkar in seconda posizione devo vedere il dorsale ed è il dorsale 53 Maria Cuti lo signore Matilde le due atlete quasi dieci secondi con cronometraggio manuale plurivittoriose quelle più attese sono emerse dobbiamo dire che ma dopo quello che ha fatto vedere l'anno scorso va da una testa bassa diciamo stanno un po' trasversando un po' sul si stanno controllando anche perché devo dire che Maria Cuti dopo quello che ha fatto vedere l'anno scorso quest'anno forse in qualche occasione si aspettava ancora qualcosa di più è vero che dieci vittorie sono sono tante però diciamo che in qualche momento quando l'anno scorso era in grandi condizioni sembrava che avesse qualcosa in più quest'anno si quest'anno quella marcia in più anche dobbiamo anche dire che l'anno scorso quando vinse il campionato italiano a Chianciano il percorso era veramente molto impegnativo infatti oggi dove un percorso è impegnativo Maria Cuti è lì insomma sono sempre in due quindi Maria Cuti e Matilde Rossignoli quindi un atleta adesso è finita la discesa iniziano il tratto pianeggiante verso Borgo atleta veneta della Luc Bovolone la campionessa italiana atleta lombarda della Valcar Travel and Service Maria Cuti quindi sono loro due erano le più attese e hanno risposto presente eh sì e in effetti in salita hanno fatto la differenza effettivamente abbiamo visto che la Rossignoli si voltava si è proprio avvantaggiata sta controllando scatta nuovamente non devono essere lontane però eh non devono essere lontane perché teme il rientro ecco vediamo l'immagine eh non sono distanti non sono distanti sono 70 probabilmente in caso di sprint eh ed ecco infatti riscatta nuovamente scatta perché lei vuole arrivare no? vuole arrivare quindi scatta nuovamente ora vediamo appena se è possibile la situazione alle spalle per rendersi conto di che cosa succede alle spalle delle due ora la Cuti sembra stare solo a ruota sta solo a ruota non dà il cambio ora non sappiamo se perché gli mancano il giro o perché giustamente ecco rientra rientra il gruppetto dietro il primo gruppetto si rimescono le carte e sono anche abbastanza le atleti che sono rientrate e ora qualcuna prova qualcuna probabilmente ci prova 11 ragazze davanti primo gruppo e se la giocheranno loro ormai a questo punto sono in 11 all'arrivo sono in 11 abbiamo visto la campionessa provinciale Trentina vediamo ora se qualcuna allunga sarebbe il momento di provarci quelle meno veloci però mi sembra che ora l'andatura sia abbastanza sostenuta sono rientrate ma non c'è stato un rallentamento tale da permettere il tentativo vediamo l'atleta nell'ultima posizione avevamo avuto l'impressione che volesse provare adesso sono alla rotatoria vediamo come approcceranno la parte finale sono 11 ragazze davanti approcciano la rotatoria la svolta a destra verso Viale Roma ora è importante tenere le posizioni perché l'atleta si neanche stare troppo indietro perché le curva poi che è in undicesima posizione non vincerà la volata non vincerà la volata abbiamo visto dai giri precedenti che bisogna assolutamente essere nelle prime due o tre adesso siamo alla chicane e ora la ultima curva dovremmo vederle sul rettilineo ed ecco il rettilineo finale la campionessa italiana che prova la volata la presa un po' troppo lunga ed è la campionessa del Trentino Alto Adige e vince nettamente vince del team Trentino femminile Silvia Sciaghi Silvia Sciaghi quindi successo per Silvia Sciaghi veramente una grandissima volata è una grande affermazione per lei perché ha veramente tolto di ruota gli altri e diciamo nello sprint ha dimostrato che ha fatto veramente un bellissimo sprint la campionessa italiana aveva spesso è entrata davanti ma gli sono mancate un po' le gambe eh sì lì sì lì sì e l'altra nel rettilineo era superata e ha fatto veramente un grandissimo risultato bellissimo il successo veramente un bellissimo successo per l'atleta del team femminile Trentino campionessa provinciale quindi è Silvia Sciaghi che si impione tra le donne esordienti secondo anno dovrebbe essere partita ora sta per partire anche l'ultima gara quella degli esordienti secondo anno tra poco intanto mentre le atlete vanno alla misurazione dei rapporti noi le aspettiamo qui per le interviste stiamo aspettando ora l'ordine d'arrivo ufficioso abbiamo visto Matilde Rossignoli che abbiamo avuto la sensazione di tutta sia arrivata terza però vediamo ora stiamo aspettando l'ordine d'arrivo delle prime cinque arrivate mentre grandissimo successo per Silvia Sciaghi abbiamo visto è rientrata nel finale assieme alle altre nove compagne sulle due atlete che guidavano Matilde Rossignoli e Maria Cuti e ha superato il gruppetto allo sprint veramente una bella vittoria la sua terza vittoria stagionale una vittoria veramente di peso quella ottenuta qui nella quindicesima edizione della Coppa di Sera dentro gli atleti ora stanno andando alla misurazione dei rapporti poi avremo modo di sentire le loro impressioni subito dopo la gara tanto festeggiatissima la vincitrice successo bello e meritato quello della campionessa trentina sta andando alla misurazione dei rapporti poi sentiremo subito le sue impressioni per un atleta trentina vincere qui a Borgoval Sugana ha veramente un valore molto molto particolare e siamo sicuri che sarà emozionatissima la campionessa trentina del team femminile trentino vediamo che stanno andando le atlete alla misurazione dei rapporti abbiamo visto col quindici l'atletta della bici festival Margot Buldrini e ora è la vincitrice Silvia Sciaghi stiamo aspettando che ci raggiungono le prime tre arrivate chiamano la misurazione dei rapporti anche Maria Cuti e Matilde e Matilde Rossignoli la campionessa italiana intanto aspettiamo aspettiamo le prime tre qui per le interviste di Rito stiamo aspettando stiamo aspettando le prime tre per le interviste di Rito ecco la vincitrice la vincitrice Silvia Sciaghi campionessa trentina terza vittoria stagionale ma credo che questa vittoria qui sia veramente incredibile esatto abbiamo visto siate rientrate all'ultimo chilometro esatto ho cercato di stare comunque coperta così da poter fare la volata visto che in salita non l'ho fatta proprio benissimo perché non mi sentivo le gambe allora ho cercato di stare un po' coperta e farle girare allora sei emozionatissima sì perché l'anno non me l'aspettavo proprio questa vittoria mi aspettavo più nelle tre o nelle cinque l'anno scorso posso dire che non l'ho fatta perché sono caduta neanche mezzo giro dall'inizio allora raccontaci un po' lo sprint abbiamo visto che Matilde Rossignoli ha allungato ma hai reagito subito ecco quando ti sei resa conto che potevi vincere allora mi sono resa conto quando appena finito la curva ho preso subito velocità e ho superato tutte ho cercato di tenerla e gli ultimi cinquanta metri o forse anche un po' prima non pensavo di vincerla perché vedevo comunque le ruote dietro ma è una gioia incontentibile non ti sei ancora resa conto di quello che hai fatto no ne ho ancora allora a chi le dedichi questa vittoria questa vittoria le dedico a mio papà che ci ha sempre creduto alla squadra che mi sostiene da sempre e alla mia allenatrice allora ti lasciamo una gioia grandissima di questa vittoria te la sognerei per qualche anno ti lasciamo grazie grazie ed ora abbiamo la seconda arrivata Maria Acuti nel finale che è successo tra te e Matilde praticamente in salita sono riuscita ad andare via con la Matilde l'abbiamo visto abbiamo visto che siete arrivate a un chilometro e mezzo a un certo punto e smesso di tirare eh sì perché non eravamo tanto d'accordo non ci eravamo tanto messi d'accordo quindi dopo ci sono venuta a prendere e siamo restate un attimo lì a guardarci e ho cercato di posizionarmi bene per la volata e poi ho dato tutto senti in una volata due temevi che ti battesse Matilde eh sì la temevo ovviamente però mi sentivo bene e dopo ripeto non ci siamo messi d'accordo quindi ci sono venuta a prendere le altre ascolta non mi ti è dato d'accordo però devo dire abbiamo visto le immagini hai dato l'impressione te di diciamo di tirarti un pochino indietro sì cioè in salita ero tutta e anche nella pianura verso l'arrivo e dopo vabbè ho dato tutto in volata comunque un bellissimo secondo posto però un po' di amarezza perché forse in una volata a due vista poi come è andata poteva essere un successo eh sì visto che Matilde l'ho battuta in volata adesso molto probabilmente riuscivo a batterla anche quando eravamo in due però è lo stesso è andata così va bene grazie complimenti per il secondo posto ed ora abbiamo Matilde Rossignoli ne parlavo prima con 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 Maria quando siete rimasti in due a un certo punto forse se ti dava una mano in più arrivavate sì se tirava un po' di più riuscivamo ad arrivare anche all'arrivo hai provato però visto un paio di volte a scattare forse se tu tenevi un ritmo un po' più uniforme anche lei ti avrebbe dato una mano o hai capito che tanto non avrebbe tirato no ho capito che non avrebbe tirato allora ho fatto in tutti i modi per non farci riprendere dalle altre nello sprint sei uscita bene dalla curva ti è mancato un po' le gambe alla fine sì mi sono mancato un po' le gambe eh mi sono mancato un po' le gambe un grande dispiacere no però perché ormai ci siete andate vicine in salita avevate fatto la differenza quindi pensavate ormai di averla a mano a un certo punto dopo la fine della discesa che non vedeva nessuno avevo un po' pensato che arrivavamo in due e diciamo una cosa poi hai perso lo sprint con Maria però sulla carta potevi essere anche la vincitrice forse anche per quella hai speso qualcosa in più eh sì ho speso qualcosa in più prima e poi la volata me ne è mancato un po' comunque un buon terzo posto salire sul polo è una soddisfazione anche se rimane un po' ramarezza va bene complimenti comunque grazie quindi abbiamo ricordiamo ordine d'arrivo abbiamo la direttore sportivo della vincitrice Silvia Sciaghi allora credo che non se l'aspettasse neanche Silvia di vincere però veramente ha fatto un grandissimo sprint in finale sì ha fatto un grandissimo sprint io gli ho detto di prendere la salita a ritmo regolare di non correre dietro a nessuno perché sicuramente in discesa l'avrebbero ripresa per cui ha riservato le energie per far la volata finale e abbiamo avuto il risultato che si meritava anche Silvia quest'anno campionessa trentina poi vincere la coppa di sera vincere la coppa di sera credo che sia il risultato più ambito per una società trentina allora io ho un'emozione che non so veramente trattenere perché vincere la coppa d'oro secondo me è come vincere un campionato italiano quindi grande emozione ora sarai premiata ricordi sì lo so il premio per i direttori sportivi un grandissimo orgoglio per me veramente grazie complimenti credo che questa emozione l'abbiamo capita tutti ma è comprensibile visto il bel risultato da capito grazie a questo punto è terminata anche la gara delle donne esordienti secondo anno ci apprestiamo a seguire l'ultima gara di giornata quella degli esordienti maschi secondo anno ricordiamo successo per quello che riguarda le donne esordienti secondo anno di Silvia Sciaghi secondo posto per Maria Acuti terzo posto per Matilde Rossignoli mentre sta per prendere il via la gara esordienti secondo anno con in prima linea il campione italiano Thomas Martinelli Ronco Maurici Dario Gallina atleta Lombardo e ancora una volta un bellissimo finale di gara per quello che riguarda la categoria donne esordienti secondo anno una gara che ancora una volta conferma la validità del percorso scelto dal veloce club Borgo sono 196 intanto i corridori esordienti secondo anno che stanno per prendere il via all'ultima gara di giornata noi vediamo il direttore di corsa che si sta preparando sta per prendere il via ripeto l'ultima gara di giornata quella riservata agli esordienti secondo anno sono 41 e 600 i chilometri da percorrere per quest'ultima gara valevola per la quindicesima coppa di sera e dopo sentite il lockdown partiti in questo momento esordienti secondo anno sono 41 e 600 i chilometri da percorrere in questo caso saranno 6 giri da percorrere e in questo caso sarà due volte affrontata la salita finale ci ha raggiunto Stefano Cassagranda presidente del veloce club Borgo ultima gara di giornata sta quasi per finire la fatica di questo incredibile di questo primo giorno perché abbiamo già assistito a quattro gare questa è la quinta diciamo ci vuole un grande ritmo e una grande organizzazione sì ci vuole un bel po' di rodaggio parlavo prima con dei miei collaboratori che fare questo evento per la prima volta sarebbe impossibile solamente dopo 15-20 anni siamo riusciti riusciamo a mettere in piedi 5 gare a ripetizione con 3-4 mila persone di pubblico che comunque sapete tutti insomma sugli arrivi stanno in mezzo e niente sta andando tutto bene il tempo ci ha ci ha graziato quindi siamo veramente contenti che anche quest'anno stia andando tutto per il meglio lo dicevo prima qualche istante fa anche i percorsi scelti che diciamo in questi anni sono modificati hanno subito qualcosa hanno dimostrato che nel finale pur essendo gare di esordienti di categorie riescono veramente a emergere quei ragazzi che quel giorno vanno più forti credo che anche dalle caratteristiche del percorso questo emerga sì abbiamo cercato negli anni di creare dei percorsi abbastanza selettivi ma non solo con le salite anche con le strade strette le curve perché comunque andando avanti loro si si troveranno queste situazioni da professionisti e quindi è giusto che imparino già adesso è il momento giusto per imparare magari anche per sbagliare nel prendere una curva nel prendere una strettoia però noi stiamo cercando di organizzare una festa e allo stesso tempo insegnare ai ragazzini come crediamo noi che sia il giusto ciclismo io parlavamo prima con Ugo proprio di questo credo che l'attenzione che si sta mettendo nell'organizzazione di queste manifestazioni dovrebbe essere capita e apprezzata soprattutto da coloro che non sono mai venuti a Borgoval Sugana e non si rendono conto di che cosa voglia dire organizzare una manifestazione del genere e l'impegno e l'attenzione che ci viene messo nei confronti dei ragazzi e di tutti coloro che vengono beh sì effettivamente bisognerebbe non solo partecipare ma magari venire anche a dare una mano allora impari a dire perché un mese prima devo fare questo piuttosto che quello poi Ugo insomma è tutto rodato ha una preparazione anche una una capacità organizzativa anche a livello burocratico che è sostituibile insomma quindi diciamo che ognuno di noi ha dei compiti ben precisi tutti gli anni e quando arriviamo qua ci basta trovarci due o tre sere e abbiamo già messo tutto in piedi io mi occupo principalmente insomma magari dei percorsi piuttosto che di trovare il giusto il premio giusto per l'anno quest'anno abbiamo fatto degli asciugamanini per tutti quanti i partecipanti sono 1200 quindi insomma una notevole spesa siamo riusciti anche a fare un pasto per tutti i partecipanti quindi anche lì i ragazzi sono al centro del del nostro focus dove ovvio ci sono i direttori sportivi che si meritano anche loro il giusto premio e questa è l'occasione giusta dicevo abbiamo assistito a una a delegare veramente importanti il fatto che quest'anno qualche volta in passato non c'è stato ci sono stati sempre tutti i campioni italiani credo che faccia capire anche l'approccio che c'è da parte delle società e il capire che cosa vuol dire venire a Borgo Valzugano sì la rivincita del campione italiano è qualcosa anche di più perché tanti ragazzi che sono qui da noi non hanno potuto partecipare al campione italiano perché magari non sono stati selezionati dalla rappresentativa quindi a me dispiace soprattutto sugli esordienti maschi che la cosa che non riusciamo a farli partire tutti ma mi sta bene il regolamento dei 200 perché averne di più sarebbe anche rischioso e quindi un po' più pericoloso però non so vediamo di riuscire a fare una rotazione nel senso che ci piacerebbe avere tutti quanti qua almeno una volta quindi non è possibile farlo per il regolamento noi ci tentiamo ogni anno di trovare il modo giusto però 400 sono gli esordienti che possono venire a Borgo diciamo che abbiamo visto comunque partecipazioni venire dalla Sicilia a Borgo Valzugana vuol dire avere un capito che cosa vuol dire venire alla Coppa di Sera e la Coppa d'Oro sì perché ricordiamo che i genitori che sono spesso e volentieri un punto come si può dire di debolezza un po' di no di debolezza però sì che a volte il genitore è un po' invadente così però sono loro che ci portano i ragazzini a fare allenamenti che ci accompagnano che fanno tante cose in queste giornate che fanno i bivi che fanno i nostri che fanno anche collaborano nella organizzazione quindi il ciclismo giovanile deve essere sempre una festa ci sta bene la grigliata con la squadra durante nel dopocorsa ci sta bene il gruppo inteso proprio come team come unità di gruppo fra genitori e dirigenti e ragazzi perché questo porta tutti quanti a non vedere l'ora di correre la domenica di ritrovarsi ogni domenica per fare questa festa ma il fatto che quest'anno mi diceva diceva Ugo prima abbiate un gruppo di ben 50 giovanissimi vuol dire che avete fatto veramente diciamo il progetto che era nato qualche anno fa si sta concretizzando alla grande sì i giovanissimi sono tutti un po' altalenanti dipende come dicevo prima dalla coesione che si riesce a creare fra i genitori quest'anno abbiamo anche Paolo Voltolini che ha corso due anni professionista ha corso nei miei anni che è stato veramente bravissimo a creare il giusto il giusto come si può dire il giusto feeling fra tutti quanti e sono andati nelle scuole a raccogliere tutti quanti insomma tutti quelli che vanno voluto provare comunque ecco il fatto di fare reclutamento nelle scuole in certi diciamo si cerca sempre di capire il perché stanno diminuendo i ragazzi in tante occasioni credo che il lavoro fatto da voi nel reclutamento delle scuole dimostra che in certe realtà questo tipo di lavoro funziona si funziona soprattutto se è l'amico di classe il compagno di classe che invita l'altro insomma a provare la bici quindi ci avete lavorato su quello abbiamo lavorato poi un po' di fortuna e adesso ci mancherebbe un percorso protetto perché nonostante tutto quello che si riesce a fare qui e ancora i nostri giovanissimi si allenano su un parcheggio insomma però Ugo ci ha parlato quando abbiamo visto la gara delle donne allieve una parte del percorso che diciamo facevano la prima parte ce ne ha parlato e addirittura lui ci ha detto che in un paio d'anni ci dovrebbe essere quindi dovrebbe essere un progetto a breve pronto diciamo che sarebbe un bel successo anche personale mio per avere dopo tanti anni portato una cosa che poi rimarrà per molto tempo ancora dopo di me ti saluto che vado a fare la premiazione va bene grazie e poi ci sentiamo prima domattina certo ciao a tutti allora ringraziamo Stefano Cassagranda lo lasciamo alla premiazione della gara riservata alle donne esordienti secondo anno stiamo seguendo l'ultima gara di giornata quella degli esordienti secondo anno sono 196 i corridori che hanno preso il via numero 1 a Thomas Martinelli atleta lombarlo della Ronco Maurigi Delio Gallina come dicevo prima con Stefano Cassagranda abbiamo veramente assistito a quattro gare che ci hanno emozionato naturalmente soprattutto nella parte finale come è logico per quello che riguarda queste categorie giovanili e ora seguiamo l'ultima gara quella degli esordienti secondo anno in questo caso la gara è un po' più impegnativa rispetto alle precedenti perché la salita i corridori la dovranno affrontare quella di Ferdberg la dovranno affrontare per due volte e crediamo che in questo caso probabilmente ci sarà un po' più di selezione ancora rispetto rispetto a quello che è avvenuto nelle gare precedenti quindi probabilmente anche se questi ragazzi hanno un anno in più seguiamo una categoria di ragazzini che hanno un po' più di esperienza anche rispetto a quelle che abbiamo visto gareggiare prima del primo anno molti di loro già erano presenti qui l'anno scorso intanto vediamo in prima posizione abbiamo visto Marco Rota del pedale brembillese terminato il primo giro ritmo veramente molto molto elevato in questa fase vediamo che l'atleta del pedale brembillese sta allungando ha distanziato anche il corridore che gli era a ruota rimane da solo quindi vediamo essendo ancora presto si volta sicuramente crediamo che attenderà l'arrivo di qualcuno anche se mantiene ancora un buon ritmo probabilmente aspetta che si sganci qualcuno e si riporti sotto ma è il gruppo è la testa del gruppo che lo raggiunge l'atleta in maglia verde dovrebbe essere un atleta da Young Biker Timbal Mamion vedremo se effettivamente si tratterà di Gregorio Acquaviva ci sembrava lui in maglia verde comunque vediamo il gruppo ora rallentato quindi raggiunto l'atleta del pedale brembillese gruppo compatto i corridori hanno percorso il primo giro vediamo la prima parte del gruppo è abbastanza raggruppata ma dietro c'è una lunghissima fila indiana perché l'andatura è sempre piuttosto sostenuta stiamo stiamo seguendo l'ultima gara di giornata quella riservata agli esordienti secondo anno siamo a Borgo Valzugana per la quindicesima coppa di sera i corridori hanno ormai percorso nove chilometri gruppo compatto abbiamo assistito prima al tentativo del corridore del pedale brembillese che ha allungato ma gli altri si sono riportati subito sotto niente da particolare da segnalare in questa fase di gara vediamo qualche allungo in testa ma niente dicevo di particolare in questo momento splendida giornata quella che ci ha accolto qui a Borgo Valzugana dobbiamo dire che le previsioni meteo fino a ieri sera prevedevano pioggia fortunatamente anche visto le caratteristiche del percorso invece la giornata che ha accolto gli atleti è stata ventilata ma veramente perfetta per una gara di ciclismo vediamo gli sportivi che continuano a incitare i ragazzi in questo caso gli atleti della Luc Bovolone e Matteo Sanavia incitamento ben meritato per questi ragazzi ma noi da sportivi invitiamo coloro che ancora non l'hanno mai fatto chi non è mai venuto a venire qui a seguire queste gare perché veramente lo spettacolo è incredibile per gli appassionati di ciclismo è qualcosa di unico diamo un incitamento agli atleti toscani dobbiamo dire che nella gara degli esordienti primo anno Tarabori a un certo punto ha illuso di poter ottenere il successo è mancato qualcosa però sicuramente oggi deve essere soddisfatto della bellissima gara che ha fatto ha fatto qui a Borgo Valzugane il quinto posto che ha ottenuto veramente lo deve riempire di orgoglio ora gli atleti stanno tornando nella discesa di Roncegno e si sta tornando nella parte più ampia del circuito quindi siamo nella seconda parte del primo giro al passaggio i corridori avranno percorso 13 km vediamo uno sportivo che incita Bartolotta Bartolotta è l'atleta siciliano che ha ottenuto finora 10 vittorie quindi 10 vittorie per l'atleta per Bartolotta l'atleta siciliano che difende i colori della ciclo sport vediamo vedete lo spettacolo gruppo veramente allungatissimo sono 196 i corridori che hanno preso il via e vedete nei tratti in cui la strada lo permette vediamo veramente un lunghissimo serpentone oggi anche se sono tutti migliori ma dobbiamo dire che sulla carta forse il grande favorito è Brandon Fedrizi l'atleta della Forti e Veloci che già l'anno scorso ottenne il successo nella categoria esordienti primo anno quest'anno 16 vittorie all'attivo per lui anche se ripeto il campione italiano è Thomas Martinelli però in questa seconda parte di stagione il corridore della Forti e Veloci ha dimostrato di avere una grandissima condizione è chiaro che una gara come questa necessita di tanti fattori anche un po' di fortuna perché un minimo problema anche meccanico può creare può essere determinante per l'esito finale però ripeto Brandon Fedrizi è partito con i favori del pronostico forse in questa più che in tutte le altre gare forse nella gara delle donne esordienti primo anno di Anna Bonissi che anche lei partiva con i grandi favori del pronostico così avviene ora per la gara di esordienti secondo anno per quella che riguarda Brandon Fedrizi comunque vedremo perché una gara del genere è apertissima le soluzioni sono tante e come abbiamo visto nella gara esordienti di primo anno c'è anche la possibilità che una fuga possa avere un buon risultato e possa essere determinante per l'esito della gara intanto i corridori sono ormai a un chilometro dal passaggio quindi hanno percorso 12 chilometri andatura sempre veramente molto sostenuta ricordo che sono partiti alle 17 e 17 quindi sono soltanto una ventina neanche minuti di percorso e hanno i corridori hanno già percorso 13 chilometri quindi andatura veramente molto sostenuta per gli esordienti secondo anno diamo un allungo in testa diamo un incitamento al team Go Fast Abruzzo perché ripeto qui ci sono corridori porra tutta Italia quindi passaggio un secondo passaggio un corridore allungato leggermente vediamo con la nostra telecamera fissa il passaggio qualche metro di vantaggio per lui ma gli altri sono subito alle spalle ripeto percorsi 13 chilometri vedete il gruppo molto molto allungato vedete stanno passando tutti i corridori e in certi punti veramente lo spettacolo a cui assistiamo è veramente molto molto bello vediamo due corridori hanno allungato hanno subito preso una cinquantina di metri di vantaggio però essendo ancora minimo il vantaggio la nostra telecamera si mantiene davanti ripeto sono in due ora che stanno guidando la corsa sono in due abbiamo visto con il numero 9 si tratta di Riccardo Benozzato se non l'ha errato Riccardo Benozzato della Sandrigo Bike Sandrigo Bike che ha ottenuto con Pasin prima il secondo posto nella gara del primo anno anche lui è campione veneto l'anno scorso fece veramente molto bene qui ora dobbiamo dire che Benozzato fece molto bene ripeto qui e se non sbaglio si piazzò al secondo terzo posto ora verificheremo un attimo comunque veramente fu molto molto bella la sua prestazione qui a Borgoval Sugana e oggi in questa prima fase di gara sta confermando infatti arrivo terzo avevamo il dubbio Benozzato si piazzò al terzo posto qui l'anno scorso intanto ora il gruppo si è ricompattato sono tutti assieme fabio fabio qui a Borgo Val Sugana per il veloce club Borgo sei sempre un punto di riferimento imperdibile beh grazie di questa allusione rappresentazione grazie di questa opportunità se è vero ho fatto il sindaco Borgo una decina d'anni e quindi vuol dire anche dieci coppetta di sera dieci coppette da sindaco e quindi l'amministratore e quindi portavoce dello spirito di questa comunità che ha il piacere e l'onore di organizzare queste corse sono stato anche presidente del veloce club e quindi nel mio palmarès non ricchissimo dal punto di vista sportivo però diciamo che dal punto di vista di amministratore di dirigente mi sono preso davvero un sacco di soddisfazioni io devo dare un merito a Fabio delle Donne perché io è un po' di anni che vengo qui al Borgo ormai è l'appuntamento fisso e devo dire che in alcune occasioni dagli stessi organizzatori mi è stato detto che eri di stimolo quando eri nel ruolo di sindaco per cercare di fare sempre qualcosa di più hai capito probabilmente quante importanza aveva per il territorio la coppa d'oro le coppie giovanili delle coppie di sera e quindi diciamo lo stimolo di qualcuno esterno all'organizzazione credo che sia stata una spinta ulteriore che oggi ha portato qui a Borgo Valzugana il centro del ciclismo giovanile sicuramente io credo che ci sia di base la passione per questo sport quindi non posso nascondere che è uno sport che mi ha sempre appassionato corso desordiente peraltro ricordo con scarti risultati non sarò ricordato per questo tuttavia nel ruolo di amministratore io ho proprio cercato di spingere in che senso abbiamo un territorio bellissimo abbiamo una forza del volontariato straordinaria e questo territorio merita merita per la bellezza del suo paesaggio merita per la bellezza delle persone e non posso nascondere una parte economica perché l'indotto generato da queste presenze seppure sembra così pratico troppo veniale parlarne è tuttavia una forma di ricchezza che poi va a ricaduta su tutto il territorio e soprattutto a favore di chi organizza e che possa sostenere questi due weekend che hanno un costo impegnativo forse ne aveva già parlato il presidente segnana e se non avessimo queste persone disponibili tante centinaia e che mette i soldi sia pubblici che privati non riusciremo a farle noi cerchiamo di dare un paesaggio un scenario bellissimo e che possa ripagare sicuramente l'occhio e soprattutto la passione di chi ama sgambettare su queste nostre strade ma direi anche che in questi anni l'organizzazione che è sempre stata importante si è ulteriormente affinata quindi oggi assistiamo a una manifestazione io l'ho accennato con Ugo ma io credo che qui ci siano transenne come al Giro d'Italia perché tutta la zona non sono arrivo premiazione veramente è uno spettacolo incredibile il confronto con il Giro quest'anno ad esempio lo possiamo fare il 26 maggio siamo stati sede di tappa e in effetti dal punto di vista di chilometri di transenne la Coppa d'Alo compete è una bella lotta è una bella tappa equivale sicuramente a una gran bella tappa anche in termini di presenze e sicuramente l'organizzazione come tutte le cose si può migliorare siamo credo molto migliorati devo dare atto a presidente Stefano Casagranda che viene dal mondo del ciclismo di cui è stato professionista che ha davvero portato molto a bordo nei suoi anni di presidenza che sono corattuali ovviamente ha portato davvero uno spirito molto professionale nell'organizzare trasferendo su di noi che adesso facciamo parte della dirigenza della parte operativa anche conoscenze e competenze tratte dall'aver girato il mondo nel ciclismo poi soprattutto noto che c'è un gran bel clima in tutti coloro che fanno parte del gruppo perché è quello che è fondamentale ognuno nei suoi ruoli diceva anche Stefano prima e questo è fondamentale perché si riesce a raggiungere degli obiettivi che in altri ambiti è molto più difficile raggiungere sì diciamo che va anche sottolineato che questo gruppo di persone nel tempo negli ultimi anni causa questa mi dispiace dirlo maledetta pandemia non è certo una parolaccia la posso dire ha fatto venire meno anche delle risorse qualcuna scelotamente davvero si è spenta e questo è drammatico vorrei ricordare appunto oggi Giancarlo Corradin che è di Covid è stato vittima e tutti lo ricordano con affetto ma dal punto di vista sociale questa pandemia ha creato molta differenza molti non non amano più le zone affollate qualcuno dice non veniamo perché dobbiamo mettere la mascherina quindi volevo calcare un po' la mano su questi aspetti che naturalmente abbiamo tutti subito ma ora l'energia la voglia è tanta di ricominciare e sicuramente si può fare di meglio siamo rimasti magari non tantissimi dovremmo cercare di fare un nuovo arruolamento è un appello anche ad essere vicini al Veloce Club Borgo perché questo non è solo una gara del Veloce Club Borgo queste due settimane sono due eventi che portano un numero impressionante rispetto al periodo e al numero di abitanti che siamo di visitatori di turisti perché questi che vengono da noi a correre e dormono una notte fuori casa sono turisti a tutti gli effetti quindi guardiamo con un aspetto ricettivo da migliorare organizzativo da migliorare ma siamo qui apposta siamo qui perché crediamo in quello che facciamo una corsa che ha una storia le corse minori che stanno davvero crescendo è un impegno etico e morale perseverare io ti ringrazio veramente perché ripeto in questi anni ti ho conosciuto come rappresentante della comunità ma anche dopo sei rimasto sempre fai sempre parte della famiglia ormai si mi mostro l'orgoglio di questa parte qua io sono un dirigente un modesto dirigente ma ci tengo ci tengo perché c'è la passione e c'è un dovere di preto ci tieni si vede e credo che sia importante per tutti la tua presenta grazie di questa intervista apprezzo molto ringrazio nuovamente grazie ti lascio all'ultima gara allora intanto vediamo i corridori stanno terminando il terzo giro gruppo ancora compatto abbiamo senito Fabio Daledonne che come diceva è stato per dieci anni sindaco qui a Borgo Valzugana intanto leggiamo degli incitamenti in questo caso al San Vendemiano e intanto ecco i corridori che sono passati in questo momento in zona in zona contagiri percorsi il terzo giro l'impressione è che vadano veramente molto molto forte anche in base alla media oraria quindi andatura veramente molto molto sostenuta nella categoria esordienti secondo anno pochi i momenti in cui ci sono dei rallentamenti vediamo ancora un allungo questo tratto del percorso una volta terminato il passo quasi ogni giro non so se l'avete notato degli allunghi qualcuno si avvantaggia andiamo qualche metro di vantaggio intanto vedete al comando con il numero 87 Guido Viero della Bruno Gaiga Campi quindi abbiamo visto al comando il corridore del Veneto Veronese della Bruno Gaiga qualche metro di vantaggio per lui i corridori stanno affrontando il quarto e ultimo giro di quelli senza lo strappo di salita del Ferdberg vediamo in questo momento ancora da solo al comando Guido Viero ripeto questa parte del percorso ogni volta propone dei tentativi di fuga quello del corridore della Bruno Gaiga è un po' più lungo di quelli precedenti vediamo sta continuando nella propria azione appena possibile vedremo quello che è il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori tanti abbiamo letto dell'incitamento al corridore toscano mezza salma ci ha raggiunto nuovamente Ugo Segnana buonasera a tutti subito dopo il contagiri anche questa volta ha allungato partita nazione un centinaio di metri il vantaggio di in questo caso di Guido Viero ecco anche i giri precedenti quando non eri presente qualcuno ha sempre allungato diciamo questa parte del percorso un po' tortuosa permette sempre a qualcuno poi c'è lo strappo in leggera salita di di allungare di provare qualche tentativo questo qui è un po' più lungo di quelli precedenti e quindi vedremo anche perché è l'ultimo dei giri l'ultimo passaggio l'ultimo giro prima della della salita insomma si la fanno poi due volte che in questo caso ecco affronteranno per due volte quindi ultimo giro viene dato a 20 secondi il gruppo da da Viero ha aumentato il vantaggio ha aumentato sì lì per lì abbiamo visto che ha avuto qualche dubbio se continuare o meno nella propria azione poi ha visto che gli davano spazio e ha e ha continuato comunque sembra veramente una stradina da fiandre vista così in mezzo al bustetto prima lo diceva anche Stefano c'è proprio la volontà di di dare questa impostazione ai corridori di far capire sin da ragazzini che che quello che le può aspettare poi ecco vediamo la gente che c'è anche sul bivio della salita aspetta la salita sì al giro prossimo li troveremo tutti in salita quindi tra poco gireremo dal dal bivio di Roncegno no? torneremo in giù torneremo verso Borgo sulla provinciale perché poi diciamo solo facendo il tratto in discesa ci rendiamo conto che quanto siamo saliti no? sì sì infatti vediamo l'atleta che difende i colori della squadra veronese della Bruno Gaiga Campi ricordiamo che da ragazzino Cunego correva con la eh sì Cunego era proprio della Bruno Gaiga quindi c'è un illustre precedente di questa squadra Cunego che ha iniziato a correre un po' più grande da Lievo da Lievo e quando penso a Cunego lo ricordo eh arrivò a al campionale italiano organizzato dalla Fiumicinese quindi la Fiumicinese qualcuno cioè è la squadra che è di Rimini no? arrivò secondo dietro a Pozzato dietro a Pozzato dietro a Pozzato secondo lui questo fu fu la prima volta che a livello fuori dal Veneto si sentiva Cunego Pozzato invece era già uno di quelli che vinceva già da giovane infatti è passato da professionista da juniore intanto aumenta il vantaggio aumenta il vantaggio di Guido Viero sono 26 secondi di vantaggio vediamo gli viene comunicato il vantaggio ora dalla dalla giuria diciamo che ha iniziato è partito forse con non grandissima convinzione poi ora si è reso conto che è una bella azione la sua è importante anche perché se dietro il gruppo ora in questo tratto lascia un po' fare può riuscire tranquillamente arrivare a affrontare la salita certo da solo è dura 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 perché c'è ancora un giro con la salita più tutto l'altro giro quindi sono è una bella distanza da coprire chilometri sono tanti però ormai è in ballo bisogna bisogna che ci provi insomma una volta che si è lanciato questa è la sua azione poi probabilmente una volta ripreso o se lo riprenderanno sarà poi dura per lui di riuscire a stare con i primi sicuramente perché ha spaccato moltissime energie e mancano tanti chilometri ancora all'arrivo però sta movimentando la corsa si è messo in luce dopo il campionato italiano è la corsa più importante della stagione quindi credo che veramente debba essere soddisfatto anche chi riesce a far vedere qualcosa la segnalazione che avete visto dava 30 secondi il vantaggio di Viero ormai dal passaggio ai contagiri è sempre da solo Viero che porta avanti la sua azione iniziata nel corso del giro precedente tra l'altro Viero è un corridore che ha fatto un bel po' di piazzamenti ma non ha ancora vinto una gara in questa stagione però 4 secondi posti 4 terzi cioè è un corridore è un corridore che ha un corridore blu ripiazzato ormai sta terminando anche il quarto giro quindi siamo al chilometro 26 di corsa al passaggio quindi chilometro 26 di corsa intanto abbiamo avuto gli ordini d'arrivo le possiamo dare nel frattempo che seguiamo la gara la gara maschile degli esordienti di primo anno avevamo dato i primi 5 quindi vittoria da Edoardo Fiorini secondo Giovanni Pasinga 5 secondi terzo Andrea Andrizzi quarto Alberto Donà quinto Emanuele Tarabori sesto Samuele Brustia settimo a 12 secondi Davide Zanei del veloce Club Borgo ottavo Riccardo Rosso del Fiumicello a 23 secondi nonno Emiliano Marcello Pelloni della ciclistica Maranello e decimo Pietro Genovese del GS Mosole questo è l'ordine d'arrivo dei primi 10 della gara esordienti primo anno intanto vediamo passare il gruppo dalle immagini che abbiamo visto ci sembra che abbiano ridotto notevolmente però il ritardo nei confronti di Viero sembra che ormai il gruppo si stia avvicinando anche perché come ricordavo affronteranno per la prima volta la salita quindi terminati i quattro giri iniziali ora questo quinto giro verrà affrontata la salita di Ferberg Ferberg piano piano ci arriviamo piano piano ci arriviamo è una pronuncia teutonica piano piano ci arriviamo e quindi vedremo sicuramente in gruppo ci sarà una certa selezione intanto andiamo verso il tramonto perché qua il sole cale un po' prima visto che ci sono le montagne e quindi il nome è più che azzeccato colpa di sera no? colpa di sera certo ma dobbiamo dire anche una cosa un'oretta fa avevamo temuto un po' che il tempo ci tradisse in quest'ultima gara invece mi sembra che ormai ci arriviamo insomma c'è stato un po' di vento le nuvole non sono così pesanti minacciose ormai diciamo mai il nome fu più indovinato insomma perché diciamo che il termine della gara ormai siamo quasi da sera è che qua con le montagne ovviamente il sole sparisce un po' prima quindi già nel tratto questo sono già all'ombra perché il sole tramontato dietro il fravorto che è la montagna più alta qui siamo sul rettine d'arrivo ormai ripeto abbiamo superato il chilometro 26 di corsa quindi mancano 15 chilometri all'arrivo continua l'azione di Guido Viero vedremo se riuscirà perlomeno a rimanere da solo fino all'inizio della salita perché la reazione del gruppo c'era stata abbiamo visto si è anche voltato probabilmente si è avvicinato molto nel tratto pianeggiante nei lunghi rettilinei lo intravede e poi come dicevo i corridori cercano di tenere le posizioni per affrontare la salita davanti perché salita stretta quindi è fondamentale è difficile anche passare poi se qualcuno passa un po' più lento ti trovi a dover superare in posizioni magari più difficoltose quindi adesso si sta sfruttando un piccolo tratto in salita vedo che incomincia a mollare probabilmente sente il gruppo proprio dietro infatti il gruppo proprio in questo momento lo riprende il gruppo ha fatto veramente un aumento di andatura notevole negli ultimi 2-3 chilometri rientrando sul fuggitivo terminata l'azione di Guidoviero gruppo compatto siamo al chilometro 28 di corsa al chilometro 29 inizierà la salita manca circa un chilometro un chilometro si da qua non è distante un chilometro inizia la salita con la svolta abbiamo gruppo molto molto allungato in questa fase sono convinto che al termine della salita cominceremo già a capire ci potranno essere anche diffrazionamenti probabilmente dei gruppetti poi lì bisogna capire cosa vogliono fare se insistono con l'azione oppure se si fermano però sicuramente ci saranno diffrazionamenti magari capiremo chi non vincerà non vincerà la Coppa di Sera parlavo prima una gara del genere fare pronostici insomma però in questo caso in questo caso è molto aperta Brandon Fedrizi con 16 vittorie vincitore l'anno scorso poi adotti di scattista quindi salita probabilmente su strappi così può anche veramente tenere o fare la differenza addirittura come l'anno scorso il fatto di aver vinto l'anno scorso lo carica ulteriormente di più certo Brandon ha doti di scattista ha un bel cambiamento di ritmo quindi può essere che la salita sia particolarmente adatta alle sue caratteristiche salita che inizierà tra poco si tra pochissimo siamo proprio in prossimità della svolta ecco adesso svoltano e inizia la salita ricordo che per coloro che ci seguissero da poco la prima parte di salita non è molto impegnativa no va molto meno impegnativa sicuramente della seconda parte la prima è molto più pedalabile vediamo un atleta del team Valdinievole in prima posizione sta cercando di allungare il ritmo quindi atleta toscano che dopo la bella prestazione di Tarabori nella categoria esordiente primo anno si sta mettendo in mostra in questa fase si sono caricati così si sono hanno preso morale anche perché dobbiamo dire che in occasione dei campionati italiani i risultati non sono stati quelli che molti sportivi toscani si aspettavano quindi ora è il momento di fare la rivincita di dimostrare la rivincita che il loro valore c'è tanto un allungo in testa vediamo due atleti hanno guadagnato qualche metro siamo nella zona siamo nella zona più impegnativa e sembra l'atleta Trentino sicuramente campione provinciale credo sia proprio della Forti e Veloci è Brandon Fredrizi credo si è mosso con largo anticipo si è Fedrizi vediamo non ci saremmo aspettati è Brandon Fedrizi proprio che ha allungato ha provato già l'azione già in questo giro ne parlavamo ora ma non mi sarei aspettato un'azione del genere a questo punto quando manca è molto anticipata molto anticipata si vediamo se c'è qualcuno che cerca di rientrare no ma soprattutto vediamo se lo scopo è quello di fare gruppetto o di andare da solo o di andare da solo perché andare da solo credo che sia veramente noi abbiamo di grande stima comunque sembra portare avanti l'azione con decisione vediamo che si sta impegnando anche in questo tratto si è molto scorrere si fa pura velocità il rapporto non sta neanche dietro probabilmente alla pedalata perché si scende ai 60 all'ora 65 all'ora comunque bel tentativo di Brandon Fedrizi è il corridore che nella categoria che l'anno scorso vinse qui la coppa di sera riservata agli esordienti di primo anno plurivittorioso della categoria con 16 vittorie ripeto attaccato quando all'arrivo mancano ancora una diecina di chilometri quindi tentativo abbastanza da lontano per una gara di esordienti è entrato un altro è Okofer questo del veloce Club Borgo Okofer 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 Federico Okofer è Okofer il numero 3 quindi sono due atleti trentini al comando Okofer e Federici che cercano un'azione congiunta a questo punto Okofer e credo sia tutto interesse di Okofer anche collaborare e tirare per fare per lo meno un'azione se non mi ricordo male da quello che ci siamo detti l'anno scorso lui sta proprio in questa zona si abita a Roncegno quindi diciamo che queste strade le conosce veramente molto bene molto bene penso che l'abbia fatta non so quante volte la strada e anche la salita comunque Radio Corsa segnala 10 secondi 10 secondi ma scoperta e poi vediamo la situazione alle spalle e quanti sono gli inseguitori bisogna anche capire quanti sono gli inseguitori vediamo Kofer non collabora però in questo momento o non se la sente o non ce la fa oppure non ritiene opportuno perché il gruppo si sta avvicinando probabilmente si rende conto che è meglio far rientrare il gruppo il gruppo che infatti è lì sta arrivando vediamo però è molto frazionato c'è un gruppetto c'è un gruppetto anche qualcuno di più forse sono 7-8 atleti che si stanno riportando sotto vediamo un atleta mi sembra 8 atleti che rientrano 138 8 atleti agganciano la testa della corsa c'è anche il campione italiano il numero 22 è il numero 137 la norma rientra che altri corridori anche altri atleti stanno rientrando adesso saranno una quindicina di atleti abbiamo visto anche col 201 Agostino Giacomo del Costa Masnaga sono una quindicina i corridori al comando e comunque la salita ha creato una notevole selezione però il gruppo ora il gruppo si sta riportando sotto quindi il gruppo rientra vedremo se se le energie spesse da Fedrizi eh sì in questo giro lasceranno qualcosa nelle gambe ecco sì perché dobbiamo rire ha fatto veramente un bel numero ha fatto una forte la salita ha fatto una salita molto forte quindi vedremo se se Fedrizi l'azione di Fedrizi adesso qualcuno in contropiede cerca l'azione giustamente sta partendo ma stanno partendo vediamo un corridore due dovrebbe essere sembra il 76 ma è subito dietro il gruppo si il gruppo sta rientrando poi c'è anche un po' di vento contro adesso eh a scendere dalla la tratta pianeggiante quindi stiamo tornando al contagiri suono della campana al passaggio dei corridori comunque il gruppo di testa saranno una quarantina di corridori mi sembra non di più non di più selezione c'è stata indubbiamente comunque non è da sottovalutare il fatto che ci sia vento contro nel scendere nel finale sulla finale sì questo potrebbe anche influire un po' sulla sulla corsa e adesso siamo pronti per l'ultimo passaggio ultimo giro ma l'azione di Fedrizi ci ha un po' sorpreso sì perché ha fatto fortissimo ha fatto fortissimo la salita vedremo sembrava un'azione quasi da da ultimo giro sì o ha fatto le prove generali e ne ha tante veramente da spendere vedremo questo è il gruppo che si giocherà probabilmente la vittoria sì ci è sembrato di riconoscere acqua viva nelle prime posizioni sono una quarantina i corridori che guidano la corsa vediamo qualche allungo ora vedremo se subito dopo il termine del giro nei giri precedenti abbiamo sempre visto qualcuno che allungava ora vedremo se sarà succederà così anche questo giro però mi sembra che al momento stiano cercando di conservare le energie poi può darsi che di essere smentito subito però mi sembra che vediamo qui c'è un tratto che può essere sì nei giri precedenti ripeterà quello che di dove di solito qualcuno allungava sono tutti in gruppo quindi saranno questi ormai a contendersi la quindicesima edizione della Coppa di Sera comunque una gara movimentata questa sicuramente veloce perché sono le 18.09 quindi molto veloce come svolgimento comunque vuol dire che hanno sempre tenuto un ritmo siamo partiti alle 18.17 alle 17.17 ma direi che oggi sono state movimentate tutte le gare perlomeno sono state sempre condotte a un buon ritmo spesso seguendo sin dall'inizio gare di esordienti la maggior parte del tempo diciamo è difficile da arrivare alle fasi salienti invece oggi dobbiamo dire che si sono impegnati tutti e hanno fatto divertire il pubblico che li ha seguiti il gruppo è adesso al compatto si guardano probabilmente poi qualcuno cercherà di portarsi nelle prime posizioni per quindi si tiene un po' di riserva per portarsi davanti in vista della salita anche perché ormai è difficile anche uscire e la salita comincia a diventare proprio sarà determinata anche questa volta comunque sono rimasti vedendo il modo in cui Fedrizia ha fatto la salita ci saremmo aspettati una maggior selezione quindi invece il gruppo che è rientrato a parte i primi 6-8 vuol dire che i ragazzi tutti hanno una buona condizione per arrivare in cima e poi anche spingere comunque perché li hanno raggiunti anche abbastanza presto hanno lasciato quei 10 secondi nel primo tratto e poi a metà del rettilineo li hanno praticamente raggiunti tanto stiamo affrontando ormai stiamo avvicinando alla salita che affrontiamo per l'ultima volta qui adesso c'è un tratto in leggera discesa e poi inizia un piccolo tratto in salita prima dell'ultimo dentello e arrivare poi lo strappo decisivo comunque dobbiamo dire questo in questa zona abituati quest'anno a un paesaggio particolarmente secco in tante zone qui è veramente verde perché negli ultimi tre settimane ha piovuto ecco dobbiamo dire che ci ha accolto un panorama veramente verde si si è molto verde qua la Valciugana ma d'altronde è la valle della pioggia in teoria quindi è particolarmente verde è un po' dappertutto e ha piovuto nelle ultime tre settimane anche qua c'è stato periodo di non pioggia per un bel periodo però da noi nei pomeriggi sera qualche temporale capita e quindi l'erba è sempre bella verde l'abbiamo notato anche i bordi di strada spesso vediamo invece in questo caso abbiamo visto veramente un particolarmente accogliente il verde diciamo che dà anche solleva il morale visto quello che ci ha aspettato quest'estate siamo ormai alle fasi decisive stiamo aspettando l'inizio della salita se ormai questo gruppetto arriverà a giocarsi si dietro si vede che sta rientrando ancora qualcuno e il gruppo allungato adesso su questo tratto di discesa c'è un piccolo dentello in salita e poi ci sarà in breve tempo l'imbocco della salita decisiva perlomeno quello che riteniamo lo devi ridire come si chiama perché lo dici molto meglio Ferberg Ferd cavallo Berg montagna Ferberg noi fino al 1918 qui eravamo sotto l'impero strungalico però devo dire siccome ho sentito prima in segreteria che il nome è stato proprio una persona che è stato il primo a dirlo quindi è giusto anche dargli merito è stato Fabio Daledonne che ha denominato il Ferberg era qui prima e poi io l'ho preso e l'abbiamo rilanciato ecco quindi era prima qui non gli ho dato i giusti meriti quindi però le dobbiamo dire noi siamo un po' appassionati del Belgio andiamo ogni tanto a fare qualche trasferta ho visto e quindi ci rimane un po' l'orecchio delle salite anche perché dobbiamo dire Trentin qui è di casa quindi andate anche per seguire Matteo veloce che è Borgo lui è qua adesso inizia la salita torniamo alla gara inizia la salita ultimo giro vediamo il campione italiano Thomas Martinelli in prima fila Brandon Fedrizi sulla sinistra Brandon Fedrizi sulla sinistra ora sta iniziando la salita vedremo se anche questa volta Fedrizi allungherà così come ha fatto il giro precedente qualche difficoltà sulla proprio in questo momento ci aspettavamo di vedere l'azione vedremo siamo tornati con le immagini sull'arrivo stiamo aspettando sono andati tutti sulla salita quindi c'è un sembramento sembramento ecco qua e è Fedrizi 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 come il precedente passaggio però questa volta c'è un corridore che li sta riportando sotto Fedrizi non è più solo come al giro precedente anzi lo prende lo salta lo salta Fedrizi però si riporta sotto sono in due al comando bellissima l'azione Fedrizi ha avuto la forza di resistere quando è stato soppassato Fedrizi ancora la ruota però ha un po' di difficoltà ha un po' di difficoltà Fedrizi Fedrizi ha in difficoltà però si riprende anzi si riprende stacca l'avversario è un'azione solitaria bellissima questa azione lo scollinamento guadagna forse lo spazio per andare all'arrivo bellissima l'azione quando abbiamo avuto l'impressione che fosse in sofferenza invece che ha reagito e è stato l'avversario ha staccato l'avversario bellissima però vediamo che sta pagando sta pagando vediamo che deve recuperare perché ha dato veramente tutto ha dato veramente tutto Brandon Fedrizi vedremo che cosa succederà alle sue spalle se qualcuno ha conservato un po' di energie bellissima questa azione molto bella soprattutto una grande duello sulla salita e poi ha fatto veramente un colpo finale che quando ci aspettavamo che soffrisse di più l'altro dell'avversario si è piantato ha seduto un po' e lui ha continuato veramente adesso vediamo dietro se qualcuno aveva ancora qualcosa per rilanciare dopo la curva mentre Fedrizi abbiamo visto che ha dovuto per forza ha recuperato ha recuperato io credo che la sparata fatta al giro precedente gli auguriamo per lui che non sia così ma probabilmente è quasi in foto qualcosina si farà sentire vediamo però vediamo arrivano sono due atleti sono in due che si riportano sotto l'87 e il 151 probabilmente l'87 sarebbe ancora Bruno Viero l'87 Viero e Nicola Cerame Cerame era il corridore che ha provato prima Cerame Cerame il corridore Piamottese e adesso il corridore del Borgo che cerca di rientrare o Coffer ancora Coffer che cerca di rientrare è o Coffer numero 3 deve chiudere subito deve chiudere subito perché se no diciamo che Cerame Cerame della Castellettese Ciclival è un'atleta piemontese 11 vittorie all'attivo per lui ma soprattutto la cosa che è incredibile vedere questa corsa Viero ha fatto un'azione di un giro e lo troviamo ancora davanti che più colpisce però vediamo gli altri sono vicini da dietro adesso rientrano stanno rientrando non vorrei che succedesse come al giro precedente però danno l'idea di non mollare questi adesso forse il vento è contrario attenzione non è che è favorevole vediamo che anche o Coffer rientra sono rientrati rientra anche il campione italiano rientrano altri 4 atleti rientrano abbiamo visto anche rientrare Cristian Mazzoleni Cristian Mazzoleni la terza del pedale brembillese è un corridore con ottime caratteristiche quindi Gianluca Archetti Riccardo Benozzato occhio a Riccardo Benozzato Riccardo Benozzato terzo l'anno scorso è un corridore molto veloce quindi occhio a Riccardo Benozzato in questo finale di gara sono in otto al comando anche gli inseguitori però sono vicini vediamo dietro perché non manca molto all'arrivo però qui in poche centinaia di metri possono rientrare comunque mi sembra che stiano stiano tenendo un'andatura abbastanza sostenuta ripeto Gianluca Archetti Riccardo Benozzato Nicola Cerame Brandon Fedrizi Cristian Mazzoleni siamo all'ultimo chilometro Thomas Martinelli Federico Coffer e Guido Viero vedremo se saranno a scatto di Ocoffer Ocoffer scatta Ocoffer è scattato ha allungato il gruppetto abbiamo visto Martinelli il campione italiano è stato il primo che ha reagito altri corridori si stanno avvicinando sarà un volatone però sembra che questi otto dovrebbero affrontare la parte finale davanti quindi potrebbero essere avvantaggiati sono loro che affrontano la parte più diciamo tortuosa nelle prime posizioni quindi per chi rientra dal gruppo non sarà facile recuperare posizioni in questo momento ormai siamo ormai alle fasi finali alle fasi conclusive ecco la S ed è mi sembra proprio Fedrizi che cerca di prendere la curva in prima posizione abbiamo visto anche l'antretta del pedale brembillese l'antretta del brembillese cerca Fedrizi di recuperare ma non recupera è Cristian Mazzoleni che vince su Fedrizi Cristian Mazzoleni del pedale brembillese l'abbiamo detto quando è rientrato e Cristian Mazzoleni veramente ottiene un bel successo comunque il finale veramente bello bello entusiasmante dobbiamo dire veramente abbiamo assistito a un bellissimo finale di gara ci siamo emozionati molto bello vedremo domani ci aspetta ancora domani ci aspetta ancora domani la cupa d'oro quindi lasciamo alla premiazione ora sentiremo sentiremo dall'impressione dagli atleti quindi successo dell'atleta del pedale brembillese davanti a Brandon Fedrizi sentiremo ora da loro le prime impressioni Cristian Mazzoleni era uno dei corridori più attesi e ha ottenuto il successo Cristian Mazzoleni otto vittorie all'attivo con lui corridore del pedale brembillese ha ottenuto la nona vittoria qui a Borgovalzugana nella quindicesima coppa di sera gara esordiente secondo anno è rientrato nel finale è veramente ha affrontato l'ultima curva avete visto in prima posizione e per gli altri non c'è stata più possibilità di rimontare quindi vittoria dell'atleta Lombardo del pedale brembillese vediamo festeggiato da compagni avversari si sta portando alla misurazione dei rapporti poi sentiremo le sue impressioni nona vittoria per il corridore bergamasco vediamo accompagnato dalla nostra telecamera qui fino alla misurazione dei rapporti secondo posto per Brandon Fedrizi è stato lui a tentare la selezione è stato lui a provarci però non c'era forse neanche lo spazio non ha avuto la forza di creare quel vantaggio in più decisivo per il successo infatti lasciamo passare il vincitore si sta portando alla misurazione dei rapporti vediamo Cristian Mazzoleni alla misurazione dei rapporti vediamo anche Brandon Fedrizi con la maglia di campione Trentino quindi il primo a misurare è proprio il vincitore Cristian Mazzoleni vediamo ora sta misurando Brandon Fedrizi dopo il successo dell'anno scorso quest'anno si deve contentare della seconda piazza e ci ha raggiunto il vincitore Cristian Cristian Mazzoleni non a vittoria stagionale abbiamo visto si è rientrato poco più di un chilometro e poi hai preso la testa nell'ultimo tratto e hai vinto veramente bene sì veramente ho dato tutto puntavo questa gara veramente da tantissimo tempo la volevo vincere quasi più dall'italiano e sono riuscito a vincerla e sono felicissimo veramente sentimi il finale sull'ultimo tratto di salita Fedrizi ha fatto un bel allungo sei rientrato dopo quando erano davanti in cinque pensavi di riuscire a chiudere no sì sì pensavo di riuscire a chiudere anche perché anche il giro prima è successa la stessa cosa e sono riuscito a chiudere poi alla fine mi sono risparmiato al massimo agli ultimi metri sono entrato primo e ho fatto la mia migliore volata veramente una migliore volata della stagione sì abbiamo visto che hai fatto le ultime due curve veramente come se non ci fossero domani veramente le hai fatte a tutta l'avevi già studiata preparata l'avevi già sì sì l'avevo preparata tantissima anche vedendo i video degli altri anni e niente sono felicissimo allora non la vittoria stagionale dicevo però sicuramente la più importante a chi le dedichi la vittoria? le dedico sicuramente a tutta la mia famiglia mia sorella mio nonno gli zii e agli amici in particolarmente ad Alessandro Mazzolini che oggi non è potuto venire e niente allora è mancato di la verità sì gli dedichi la vittoria allora sì io spero che ti abbia visto veramente perché hai fatto veramente un gran finale sì complimenti grazie ti lascio ed ora dovrebbe essere qui Fedrizi secondo posto oggi ti abbiamo visto hai cercato di ripetere il successo dell'anno scorso che è successo nel finale? ma ci ho provato due le volte e non è andata tanto bene perché tanti non mi davano i cambi in fuga e allora siamo arrivati in volata l'ho preso per il primo però ho sbagliato un po' l'ultima curva però ho fatto lo stavo riuscendo magari a riprenderlo però era troppo vicino l'arrivo senti quando sei partito al giro precedente io pensavo che fosse un po' presto come mai si è partito? ma io volevo schermare un po' quelli più forti quelli velocisti che sapevo che mi potevano battere in volata e l'ultimo giro ascoltami abbiamo visto la salita sei stato a un certo punto l'hai presa fortissimo poi ti ha raggiunto dovrebbe essere stato Cerame che ti ha raggiunto ti ha raggiunto Cerame ha dato l'impressione di staccarti sei sembrato un po' in crisi e poi invece nell'ultimo tratto sei riuscito a rimontare che è successo in quel finale? ma nei primi giri facevo fatica perché non sono riuscito a riscaldarmi però c'ho lo stesso provato in salita Cerame mi ha sorpassato e poi alla fine ho dato tutto per magari riuscire a prendere qualche metro però poi nel falso piano in discesa non ce n'avevo più senti hai dato l'impressione appena finita la salita di avere proprio bisogno di recuperare forse avevi dato anche troppo sì avevo dato troppo appunto non ce n'avevo però sapevo che se volevo vincerla dovevo vincerla là ti vedo un po' amareggiato sì beh avrei voluto vincere quest'oggi però mi ha contento anche del secondo post perché ho fatto quello che volevo fare in salita e allora va bene comunque credo che sia una stagione con 16 vittorie ampiamente positiva sì sì è bello anche questo secondo post mi soddisfa un po' va bene ti lascio e ancora una volta abbiamo Riccardo Benozzato terzo l'anno scorso e terzo quest'anno ti sei ti sei ripetuto l'anno scorso eri un po' incredulo questa volta credo che nel finale forse eri più convinto di ottenere un risultato migliore sì quest'anno in confronto all'anno scorso la gamba girava di più molto di più però gli ultimi chilometri sentivo un po' di male alle gambe sapevo che l'ultima curva dovevo prenderla in testa però le gambe hanno fatto tutto al 110% e non sono riuscito a prenderla per primo dicevo nel finale quando sei rientrato io ero convinto che allo sprint ti riuscisse a fare un po' meglio sì sei veloce quindi sì pensavo anch'io però alla fine come ho detto prima le gambe verso la fine non giravano non giravano tanto quindi ho dato tutto più prima dell'ultima curva che all'arrivo però ho fatto tutto al massimo e sono abbastanza contento dimmi una cosa è una gara particolarmente impegnativa questa vero? sì più che altro le stradine strette che quindi su e giù devi rilanciare molto e se sei già dopo le prime 20-25 posizioni ti rallenta molto nelle contropendenze quindi sì è il dislivello abbastanza gli atleti che ci sono sono i più forti quindi diventa una gara dura e e basta insomma terzo l'anno scorso terzo quest'anno il podio è sempre una bella soddisfazione sì certo sono quest'anno speravo di fare un po' meglio perché mi sono preparato tanto e molto bene sono arrivato che le gambe erano al massimo della condizione però ci è mancato poco va bene grazie complimenti grazie quindi ti lascio quindi ricordo i primi tre arrivati quindi successo per cristian mazzoleni il lombardo del pedale brembillese secondo brandon fedrizi della squadra trentina della forti e veloci terzo posto per il veneto riccardo benozzato sandrigo bike questo l'ordine d'arrivo della gara riservata agli esordienti secondo anno quarto guido viero quinto nicola cerame quindi al quarto posto ancora un atleta veneto guido viero quinto nicola cerame l'atleta piemontese questo è l'ordine d'arrivo della quindicesima coppa di sera riservata agli esordienti secondo anno ora vedremo ora rimaniamo qui vedremo se ci raggiungerà il direttore sportivo di cristian mazzoleni o qualcun altro quindi comunque aspettiamo fino alla premiazione della gara riservata agli esordienti secondo anno termini di questa giornata ormai come diceva prima siamo a sera sono passate le 18.30 ecco il direttore sportivo che aveva detto ci ha raggiunto del pedale brembillese allora veramente un grandissimo finale era particolarmente soddisfatto si ci teneva ha voluto tanto fare questa corsa ha vinto è stato bravissimo è stata brava tutta la squadra oggi avevamo qui quattro atleti hanno finito tutti la corsa due nel gruppo davanti anzi tre quindi sono contentissimo proprio come come di essere sia per Cristian che per la squadra bravissimi mi diceva prima Cristian che aveva studiato anche i filmati per per il finale e devo dire che ha affrontato le ultime due curve veramente in maniera incredibile ma allora ne abbiamo parlato un po' prima della corsa e ci siamo detti entriamo per primi il più forte possibile è entrato ha preso due metri tra i di vantaggio e li ha tenuti fino alla fine è stato bravissimo ha fatto quello che doveva fare e così si vincono le cose anche perché dobbiamo dire questo sulla carta forse pur essendo un corridore non era il più veloce però ha dimostrato di essere più forte si c'era ben ozzato che forse era anche più veloce perché poi ha fatto tanti risultati anche lui quest'anno diciamo che quella curva era strategica è stato bravissimo ha fatto tutto bene quindi ha seguito il consiglio del DS in questo caso devi essere particolarmente soddisfatta ogni tanto c'è anche il DS ogni tanto e poi in una giornata come oggi in cui viene premiato il DS credo che sia l'apoteosi esatto sono felicissimo perché sono stati due giorni siamo venuti qui ieri siamo stati benissimi in hotel è un gruppo fantastico sia quel primo anno che il secondo anno davvero una squadra bellissima quindi va bene così siamo tutti contenti grazie ti lasciamo la premiazione sei sul podio vestirei la maglia quindi per ripeto come per il direttore sportivo del del vincitore perché ricordiamo ancora una volta anche nel caso degli esordienti il il vincitore della giornata non è solo il corridore ma il corridore vince per il proprio direttore sportivo ne abbiamo parlato varie volte ricordo l'appuntamento domani mattina per la compa d'oro intanto aspettiamo rimaniamo ancora in attesa rimaniamo ancora in attesa della premiazione e come sempre al termine della premiazione dopo lo sfumante e diciamo e coriandoli chiuderemo quindi ancora qualche minuto vediamo inizia la premiazione sul mitico palco di Borgo Valzugana dobbiamo dire che molti corridori ma soprattutto molti direttori sportivi hanno l'ambizione di salire su questo palco perché veramente è un po' l'apoteosi della stagione vuol dire aver avuto una stagione degli atleti che hanno raggiunto quegli obiettivi che molti direttori sportivi si erano proposti all'inizio dell'anno quindi siamo qui stiamo aspettando e nel momento in cui attendiamo la premiazione di quest'ultima gara io vorrei ricordare brevemente tanto ne abbiamo tutto il tempo gli ordini di arrivo delle gare che delle quattro gare che hanno preceduto questa coppa di sera riservata agli esordienti secondo anno la giornata l'abbiamo iniziata con le donne allieve donne allieve sui 60 km successo di Chantal Pegolo della Conscio Bike Friuli seconda a 5 secondi Giada Silo della Scuola Ciclismo Vo terza Eleonora Labella il pirata Samari Cambi Vangi quarta Beatrice Temperoni ciclistica Bordighera quinta Alice Bulegato a 10 secondi della Young Team Arcade sesta Linda Sanarini a 16 secondi Scuola Ciclismo Vo settima Elena De Laurentiis della Guarenna ottava Anita Baima della Cicli Fiorin Cycling Team nona Lucia Romeo Brillante della Valcar Travel and Service decima Arianna Bianchi della BS Carrera abbiamo proseguito con la gara donne esordienti primo anno che ha visto il successo della campionista italiana Anna Bonassi del Mazzano seconda Maddalena Pascut della Conscio Pedale del Sile terza Sofia Tezzele eletta Trentino Cycling Academy quarta Isabella De Angelis Unione Ciclista Ossanesga quinta Aurora Nadali Luc Bovolone sesta Irene Ferrari a 10 secondi gioca in bici Olio Po settima Elena Dagnese ciclistica Valvasone ottava Anna Longo Borghini pedale Ossolano nona Carlotta Ronchi Valcar Travel and Service decima Emma Colombo U Green Gorla Minore dopo questa gara c'è stata quella degli esordienti primo anno con il successo in solitaria di Edoardo Fiorini pedale Chiara Vallese a 5 secondi secondo posto per Giovanni Pasin Sandrigo Bike terzo Andrea Fedrizi città di Marostica quarto Alberto Donà Cartura Nalin quinto Emanuele Tarabori Via Nova sesto Samuele Brustia Johan Biker Timbal Mamion settimo Davide Zanei del Veloce Club Borgo a 12 secondi ottavo Riccardo Rosso a 23 secondi del Fiumicello 1971 nono Marcello Pelloni ciclistica Maranello e decimo Pietro Genovese del GS Mosole tanto vedete premiato il secondo arrivato Brandon Fedrizi ed ora prima di quest'ultima gara la gara precedente è stata quella delle donne esordienti secondo anno con il successo di Silvia Ciaghi del team femminile Trentino davanti a Maria Cuti Valcar Travel & Service terza Matilde Rossignoli della Lucca Bobolone quarta Margot Buldrini del Bicifestival quinta Agata Campana dell'Unione Ciclistica Lupi sesta Noemi Tosin con sciopedale del Sile settima Alessia Milesi Unione Ciclistica Ossanesga ottava Rebecca D'Apollonio Young Team Arcade nona Serena Zannoni VO2 Team Pink e decima Clarissa Laghi Eletta Trentino Cycling Academy questa era la quarta gara di giornata delle donne esordienti secondo anno e dove invece vedete premiati gli atleti della categoria esordienti secondo anno che hanno terminato poco fa la gara con i primi tre arrivati vedete al primo posto Cristian Mazzoleni pedale brembillese secondo posto per Brandon Fedrizi forti e veloci terzo posto per Riccardo Benezzato Sandrigo Bike mentre vediamo premiati il direttore sportivo del vincitore ora si stappa lo spumante poi i coriandoli e a questo punto diamo l'appuntamento a domani mattina per la gara riservata agli allievi vedete i primi cinque arrivati dell'ultima gara dopo Mazzoleni Fedrizi e Benozzato quarto posto per Guido Viero quinto Nicola Cerame vediamo si festeggia sul palco ed ora prima di chiudere diamo ancora un attimo questa bellissima giornata di sport prima di chiudere ci raggiunge nuovamente Ugo Segnana veramente una giornata terminata nel modo migliore sì una giornata splendida iniziata con la Coppa Rosa proseguita con la Coppa di Sera gare molto belle una bella proprio anche un bel clima sia meteorologico ma anche di ambiente proprio ho visto ragazzi sereni contenti ho visto il pubblico felice di essere qua e di accompagnare questa sera fuochi d'artificio per tutti coloro che sono in zona questa sera chi è in zona Borgo Valsugano ore 22 fuochi d'artificio da Castel Telvana a questo punto sentiamo la regia diamo l'appuntamento a domani mattina per la Coppa d'Oro domani mattina mi raccomando non perdetevi la sfilata di apertura sicuramente che partirà dalle ore 10 da Corso Osugum e si concluderà qui sotto l'arrivo che verrà il via tutti i ragazzi iscritti oltre 400 i figuranti del Paglio della Brinta i farinotti e i semolotti più le associazioni del paese che hanno l'orgoglio e la voglia di sfilare per farsi vedere grazie a tutti e appuntamento a domani mattina ottimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti